per l'esecuzione dell'ino nazionale. Grazie a tutti. 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 di questo consiglio comunale vogliamo ricordare per onorarne la memoria due persone, due donne che si sono impegnate con dedizione e senso civico per la nostra comunità e che sono recentemente scomparse. Maria Rosa Bertoni, scomparsa all'età di 82 anni, fu consigliera comunale dal luglio 1985 al marzo 1990. Si impegnò strenuamente nel movimento femminile, oggi donne impresa, in seno alla Coldiretti e del quale fu per molti anni responsabile nazionale. La sua voce stentorea, come ricordano i membri del Consiglio Provinciale di Coldiretti Ravenna, si faceva sentire anche negli anni 70, quando era accesa la discussione sulla riforma del diritto di famiglia e senza remore teneva alta la bandiera delle donne impegnate in agricoltura. Come assemblea vogliamo stringerci al dolore dei suoi cari e di tutti coloro che hanno potuto condividere con lei un pezzo di strada. Concetta Genovese è prematuramente venuta a mancare all'età di 55 anni. Fu consigliera comunale dall'aprile del 1999 all'aprile del 2005. È stata membro del Consiglio di amministrazione della società pubblica Azimut e della Commissione elettorale comunale, incarichi svolti, consenso del dovere e determinazione. Oltre agli incarichi, Concetta aveva una passione innata per la politica. Era segretaria del circolo del Partito Democratico Enrico De Giovanni. Amava condividere pensieri e progetti con una disponibilità e una dedizione uniche, sempre in punta di piedi, misurata, ma allo stesso tempo entusiasta. Già provata dai segni della malattia, non era voluta mancare alle ultime iniziative del Partito Democratico di Faenza, sempre con quel suo sorriso e quella dolcezza che la contraddistinguevano. una bellissima persona che ci mancherà. Voglio infine rivolgere un saluto affettuoso alla sua famiglia che è anche qui oggi con noi e in particolare al suo figlio Francesco. Chiedo un applauso per entrambe. Ci alziamo per tributare un minuto di silenzio. I cannerò per c'erra a 10 minuti di filmare. I cannerезare un minuto di silenzio. Grazie Procediamo con il secondo punto iscritto, svolgimento di interrogazioni, ne sono state presentate nove, lascio la parola per la prima interrogazione al capogruppo Bertozzi con l'interrogazione dal titolo ASP Romagna Faentina. Prego capogruppo. Grazie Presidente. Grazie a tutti. 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 degli ASP che via via andranno ad accumularsi. Quale potrà essere l'impatto per il 2023 di questa situazione sui conti di ASP e conseguentemente sul bilancio dell'Unione e specificatamente del Comune di Faenza? Pensa ancora a questa amministrazione che questo sia il modo corretto di gestire ASP della Romagna Faentina? Ritiene questa amministrazione che il patrimonio immobiliare di ASP, ad esempio, sia gestito in maniera efficiente ed efficace? Dove sono le responsabilità di questa situazione? Grazie. Grazie a lei capogruppo, lascio la parola all'assessore Agresti per la risposta. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Vado per punti cercando di essere il più chiaro possibile nella complessità degli elementi che compongono la situazione dell'accreditamento in generale e dell'accreditamento che coinvolge l'ASP della Romagna Faentina. Intanto rispondendo alla prima domanda sulla nuova scadenza dell'accreditamento sul nostro distritto sociosanitario che è stata prorogata fino al 31-12 del 2023, quindi fino alla fine di quest'anno. Andando ad usufruire di una facoltà che la Regione, con la delibera regionale di inizio dicembre, lasciava ai vari distretti. Tengo a precisare che il distritto sociosanitario della Romagna Faentina è l'unico che ha scelto di prorogare per un anno la scadenza dei termini dell'accreditamento, mentre tutti gli altri distretti che sono andati in scadenza il 31-12 dell'anno scorso l'hanno fatto per altri due anni. Questo per seguire più da vicino tutto il percorso dell'elaborazione dei nuovi criteri sul tema dell'accreditamento che in primis la Regione ci indica con la delibera regionale del 5 dicembre del 2022, nel particolare la 2120, che individua, e io qui cerco di fare una sintesi per non essere troppo polisso, quattro macromotivazioni del perché si prende altro tempo, detto in parole povere, per definire i criteri del nuovo accreditamento. Il primo è che in assenza di una disciplina espressa che regolamenti la prosecuzione del percorso di accreditamento a regime dopo la scadenza dell'unico rinnovo previsto per l'accreditamento definitivo, quindi parliamo di circa due anni fa, la Regione ritiene necessario rivedere ed integrare le procedure per il rilascio e o per il rinnovo dell'accreditamento sociosanitario. In seconda stanza perché le problematiche emerse con l'emergenza del Covid-19 nei servizi sociosanitari, affrontate, come dice la Regione, anche in un apposito tavolo tecnico costituito da Stato-Regioni presso il Ministero della Salute, rendono necessario introdurre delle modifiche riguardanti sia i criteri che i requisiti di accreditamento e la necessità di modifiche sostanziali della disciplina regionale che determineranno la ridefinizione complessiva del sistema di accreditamento e di remunerazione dei servizi sociosanitari. Come terza motivazione indica che essendo stato costituito il gruppo regionale per l'aggiornamento del sistema di accreditamento sociosanitario per lo sviluppo e innovazione della rete dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, con l'obiettivo generale di formulare delle proposte in merita modifiche e aggiornamenti in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari, scusate la ridondanza, nonché approfondimenti e proposte di sviluppo e di innovazione dei medesimi servizi. Come quarto e ultima macroindicazione, la Regione indica che è attualmente in corso la fase istruttoria per la definizione del nuovo piano sociale e sanitario regionale, documento che costituisce il quadro di riferimento per la programmazione territoriale e della rete dei servizi sociosanitari accreditati e di sviluppo essenziale dei servizi sociosanitari per il prossimo triennio. In pratica la Regione prende ancora tempo per definire i nuovi criteri, i nuovi requisiti per l'accreditamento e noi riteniamo che questo sia un percorso da fare insieme con le deleghe e le competenze dovute alla Regione, con le deleghe e le competenze dovute ai soggetti istituzionalmente competenti, quali sono i distretti sanitari. Ed è per questo che abbiamo rinnovato con la facoltà che lascia la Regione di un anno il termine dell'accreditamento, non quindi fermando il nostro percorso di ragionamento sulla gestione dei servizi per la non autosufficienza, ma integrandolo con quello che è il percorso regionale, cercando quindi di lavorare nel pieno rispetto di tutti gli interlocutori, sia quelli pubblici, sia quelli privati, che al momento concorrono all'erregazione dei servizi sulla non autosufficienza sul nostro territorio. Questo secondo me in qualche modo risponde anche alle domande successive che chiedono quali siano gli orizzonti per la definizione dei percorsi nel particolare di ASP della Romagna-Faintina. Ribadendo, fra l'altro inoltre, che c'è la massima disponibilità dell'assessorato in tutte le sue forme, ad aggiornare in tutte le sedi che questo consesso ritiene delegate in merito a questo percorso. Cercando di rispondere anche alle successive domande, passo al tema delle rette, in qualche modo facendo un ragionamento che può essere proprio ideutico anche da alcune delle interrogazioni che saranno successive, in particolare quella del gruppo consigliare Lega. Anche qui cercando di non essere prolisso, però facendo un ragionamento anche storico che possa meglio inquadrare il tema delle rette e delle tariffe per i nostri servizi, sia accreditati che non accreditati. Quindi anche qui mi perdonerete se cercherò di andare un po' sul tecnicismo raccontando un po' di cose, in particolare su come sono state stabilite le tariffe per i servizi accreditati, posto che l'ASP gestisce sul nostro distretto sanitario soprattutto posti non accreditati. La Regione Emilia Romagna ha istituito un sistema di accreditamento dei servizi sociosanitari rivolte ad anziani e disabili ancora nel 2009 e ha accompagnato il nuovo modello di gestione con un corrispondente sistema di remunerazione, quindi appunto parliamo di tariffe, caratterizzato dalla definizione dei relativi costi di riferimento essenziale per la quantificazione delle componenti, quindi c'è una delibera di giunta regionale di fatto che fissa queste tariffe sui servizi accreditati. La normativa regionale definisce un sistema di remunerazione di relativi costi di riferimento in funzione dei servizi sociosanitari accreditati, fissando nel 2009 gli importi. Il sistema di classificazione, adesso cerco un attimo di stringere, di sintetizzare, poi ovviamente queste sono informazioni che possono essere fornite anche in forma scritta. Il sistema di classificazione degli utenti applicato dalla delibera e validato dalle unità di valutazione geriatrica distinguono quattro livelli di servizi socioassistenziali, livello A, B, C, D, corrispondenti questi ad un livello decrescente di non autosufficienza, laddove il criterio A ha un livello di non autosufficienza più alto, quindi un servizio a livello socioassistenziale di portata maggiore. Di norma, gli utenti delle fasce A e B sono l'utenza ordinaria delle strutture accreditate e quelle B e C delle strutture non accreditate, questo è per cercare di fare un attimo ordine. La delibera di giunta regionale del 2009, quindi quando partì il primo imprinting dell'accreditamento, fissava i costi di riferimento per i servizi sociosanitari per l'anno 2010, quindi per l'anno successivo, valevoli appunto per la prima fase di accreditamento con queste tariffe. Il livello A aveva un riconoscimento di 90,25 euro, il livello B di 90,25, di nuovo, il livello C di 81 euro. Questo sempre per semplificare vuol dire che il costo di riferimento medio tra i livelli B e C, quelli che fanno riferimento tra le strutture non accreditate, quelle che oggi gestisce in numero maggiore l'ASP, pari a euro 85, questo ancora nel 2010. Anche qui cerco di semplificarla, la regione fissava il costo del servizio mediamente in 85,625 euro, ancora nel 2010. Queste tariffe hanno avuto un aggiornamento dovute al nuovo sistema di accreditamento, quello di cui parliamo ancora adesso che ha appartito nel 2015, con una nuova delibera di giunta regionale, la 273 del 2016, che fissava delle altre tariffe sempre secondo quel criterio di classificazione. Il livello A aveva un riconoscimento, una remunerazione di 91,90 euro, il livello B di 91,90 euro, uguale, il livello C di 82,65, creando quindi un costo di riferimento medio tra i livelli B e C pari a 87,275 euro. Questo appunto nel 2015, o meglio a partire dal 2016. E sono stati gli ultimi costi di riferimento fissati dalla delibera di giunta regionale, a cui però si è aggiunto un nuovo aggiornamento sul finire dell'anno scorso, con la delibera di giunta regionale del 1625, che ha riconosciuto per i posti accreditati altri 3 euro pro capite pro die, per far fronte a tutte le spese di maggiorazione, in particolare a quelli dei costi energetici, che portavano un livello medio, un costo medio di riferimento dei livelli B e C, quelli sempre citati del non accreditato, a circa 90 euro. Quindi, e cerco di raccapitolare perché capisco che ho dato tante informazioni, nel 2010 il costo di riferimento era circa 85 euro, lo dice la regione, il costo di quel servizio è mediamente questo, 85 euro pro capite pro die. Nel 2016 ci dice che il costo di riferimento è 87, nel 2022 ci dice che il costo di riferimento è 90 euro. Se voi andate a paragonare questi costi di riferimento con le tariffe che l'ASP in questi anni di riferimento ha avuti nel tempo, vedrete che c'è una sperequazione, un delta altissimo, molto consistente. Questo per forza di cose portava ad avere dei servizi non minimamente sostenibili che nessun altro ente gestore si sarebbe preso in carico. Nessun ente gestore oggi sarebbe in grado di garantire un servizio a 50, 52, ma neanche 60 o 72 euro al giorno. è impensabile con i livelli assistenziali che sono richiesti oggi e con i costi dovuti sia alla pandemia ma anche ai costi energetici che hanno interessato questo tipo di servizi in particolare negli ultimi 36 mesi. Questo per dire rispetto alla domanda che il capogruppo Bertossi pone che non c'è a nostro modo di vedere un bianco e un nero, una risposta definitiva. Era necessario, per noi l'abbiamo fatto ancora nel 2021, prevedendo un incremento progressivo delle tariffe nei nostri servizi che non può essere soltanto messa in campo una soluzione, quindi non soltanto l'aumento delle tariffe, non soltanto il coinvolgimento dei comuni soci per far fronte alle esigenze di bilancio dell'ASCO, ma probabilmente trovare una terra di mezzo ed è quella che stiamo cercando di percorrere, in cui cerchiamo, guardando soprattutto i costi di riferimento della Regione, che sono quelli che trasversalmente accompagnano da Piacenza a Rimini i nostri servizi, di poter richiedere un contributo e una corresponsabilità ai nostri utenti, ma anche laddove questo non sia sufficiente, prevedendo anche delle risorse comunali e in questo caso lo rivendichiamo anche perché permette di offrire un servizio a una porzione fragile della nostra comunità. Ci tengo a precisarlo... La interrompo perché è terminato il tempo, lascio la parola per la replica... Posso prendermi un minuto così provo a rispondere velocemente... Vi hanno dato il doppio del tempo consentito. Lascio la parola, scusi, al Capogruppo. Grazie Presidente. Molto sinteticamente chiedo una risposta scritta per l'interrogazione, così anche avrò modo di leggere le considerazioni finali. Non sono soddisfatto, Assessore, non sono soddisfatto per due ragioni. Una politica, che è inutile adesso in replica portare ancora avanti, resta il fatto che l'informazione che vi eravate impegnati a dare non è stata data e poi non ci sono delle risposte. Lei ci ha spiegato il meccanismo di calcolo delle rette, ci ha spiegato quelle che sono le difficoltà oggettive, però non è entrato nel merito delle soluzioni. Perché qui c'è bisogno di trovare delle soluzioni? Perché nel 2023 ci troveremo molto probabilmente, la norma non è ancora chiara, a non poter utilizzare ad esempio la possibilità di far traslare gli ammortamenti, cosa che ad esempio non è stata debitata né nel 2021 né nel 2022. Quindi stiamo parlando di altri 300 mila Euro di addebiti che andranno sul bilancio del 2023. I costi di gestione, l'incremento dei costi di gestione che vanno da Piacenza a Rimini, ma noi li subiamo due volte perché oggi vengono pagate delle rette maggiori su alcune delle strutture dell'Asp, da quello che mi è parso di capire si andrà in quella direzione anche sulle altre strutture dell'Asp e in più vengono indirettamente addebitati ai cittadini faentini e al contribuente delle somme necessarie per andare a ripianare i bilanci di Asp e soprattutto non ha risposta a quella che secondo me è la più importante delle domande. Come viene gestito il patrimonio immobiliare di Asp che è l'altro asset significativo? Io spero che questo ci sarà nella risposta scritta. Qui non si tratta di prendere tempo, qui si tratta di trovare una soluzione che da troppo tempo viene rimandata. Io non voglio ritornare di nuovo sulle responsabilità perché l'abbiamo già detto ma le responsabilità sono evidenti, però c'è bisogno di trovare delle soluzioni e anche dalla risposta a questa interrogazione, io di soluzioni non ne vedo solamente una, ma vedo solamente che all'interno del bilancio del Comune di Faenza per il 2023 ci sarà la previsione di un altro intervento importante, maggiore rispetto a quello dell'anno scorso per andare a rifondere i costi di Asp con un Consiglio di amministrazione che continua a sedere al proprio posto, senza prendere atto di una situazione, perché nei documenti ufficiali dichiara che è a rischio la continuità aziendale, la stessa cosa lo fanno i revisori dei conti e comunque senza prendere atto di una situazione che è ingestibile continua a rimanere al proprio posto proponendo esclusivamente soluzioni ordinarie o chiedendo alle amministrazioni dei soci di intervenire che fra l'altro sono obbligate anche per legge. Grazie. Grazie a lei Capogruppo, se vuole replicare Assessore a due minuti, prego. Sì ovviamente fornirò tutto in maniera scritta e così anche da fornire risposta completa a tutti i quesiti. Personalmente credo che sia stato fatto un lavoro molto certosino sul patrimonio immobiliare, qui anche per usare la replica per completare la risposta e quindi che il patrimonio immobiliare sia gestito efficacemente sia sotto dal punto di vista commerciale, per quegli immobili che sono affidati secondo i criteri di mercato, anche se con i legittimi e comprensibili limiti che la gestione di un patrimonio con i criteri di mercato ha per via della natura pubblica dell'ASP e sia soprattutto per la gestione sociale invece di quelle unità immobiliative, di quel patrimonio immobiliare che è destinato alla finalità sociale, che è la stragrande maggioranza del patrimonio immobiliare di ASP. L'unice criticità, personalmente l'ho ravviso, ma qui lo tocco solo in maniera tangente, su alcuni rapporti che l'ASP al momento ha rispetto al suo patrimonio immobiliare laddove insistono su progetti dei comuni soci, in particolare uno che non coinvolge il Comune di Faenza, ma che è una situazione abbastanza sui generis, anche e soprattutto per l'ottimizzazione del patrimonio del Comune di Faenza. È in redazione il bilancio di previsione 2023, quello dell'ASP della Romagna-Faintina come quello dell'ente locale, per cui di nuovo offro la mia disponibilità laddove sarà finalizzato questo lavoro a poterne portare aggiornamenti, oggi per forza di cose non lo posso fare, probabilmente non lo potrò fare anche nei prossimi giorni nella risposta scritta. Concludo dicendo che io credo che sia stato fatto un lavoro molto importante invece sull'ottimizzazione e sulla gestione del patrimonio e dei servizi dell'ASP della Romagna-Faintina. Lo dimostra il bilancio, seppur in passivo come quello del 2021 e del 2022, che al netto della misura del congelamento degli ammortamenti, una misura che era stata messa in piedi nel 2021 e nel 2022, è comunque un passivo molto sensibilmente ridotto, parliamo di quasi mezzo milione di Euro di differenza, nonostante i costi per la gestione Covid siano rimasti gli stessi, nonostante ci sia stato un aumento molto importante dei costi delle utenze. Noi oggi abbiamo presentato un bilancio completamente differente, seppur ancora in rosso rispetto all'anno precedente, frutto di un lavoro di organizzazione dei servizi, di lavoro delle tariffe, anche di reperimento di nuovi servizi, appunto scusate anche qui la ripetizione, l'ASP si è fatta promotrice, si è stata protagonista per esempio dell'accoglienza dei rifugiati ucraini e questo è stato anche un modo per dare nuove assita economici all'ASP che per quanto prevede il Comune di Faenza ha richiesto un contributo sul suo bilancio di 150.000 Euro, 152 per questa annualità, che sappiamo bene, se visti il bilancio familiare di uno di noi potrebbe ovviamente essere un volume molto cospicuo, ma all'interno del bilancio di un ente come quello del Comune di Faenza, secondo me, se speso per salvaguardare il lavoro sociale in tempi fragili come gli ultimi due anni possono essere un contributo che il Comune di Faenza, la dico in questo modo, può anche mettere volentieri se questo serve a tenere alti gli argini sociali della nostra comunità. In questi giorni abbiamo ricevuto la segnalazione di alcuni cittadini che da diversi anni risiedono in via Bice Montuschi che ci riferiscono di un grave disagio che li affligge. A quanto riferito la via in oggetto sembra non essere presente nelle mappe catastali della città, non esiste neppure su Google Maps e vedi cittadini residenti non poter ricevere pacchi e nessuna consegna domiciliare. Questa mancanza rappresenta un ulteriore e più grave problema in riferimento alla prossima riorganizzazione della raccolta differenziata. La via in questione non risulta presente neppure sull'applicazione del rifiutologo e di conseguenza i residenti di questa via non hanno ricevuto comunicazioni in merito e neppure i bidoni per la raccolta differenziata, nonostante da anni ricevano e paghino regolarmente la Tari. Nonostante numerose richieste di informazioni presso il Comune e direttamente ad ERA, ad oggi nessuna informazione è stata data ai residenti che non sanno come e dove dovranno lasciare i propri rifiuti per fare in modo che essi siano regolarmente raccolti. Siamo qui di chiedere all'assessore di competenze e informazioni in merito alle tempistiche e alla risoluzione di questo problema. Grazie a lei capogruppo, la parola per la risposta al signor Sindaco. Paolo Ortolani, prego allora, assessore Ortolani. Sì, grazie per l'opportunità di fare una spiegazione su quello che sta succedendo a via Bice Montuschi. Via Bice Montuschi è quella porzione di strada che è stata ceduta a seguito di un'organizzazione non completa, quindi è stata anticipata la cessione pubblica, per cui risulta a tutti gli effetti una strada pubblica del Comune di Faenza. Da anni i residenti lamentano che nonostante le ripetute segnalazioni, pur avendo verificato più volte che rientra in tutto quello che è l'elenco ufficiale delle strade, dei Comuni di Faenza e per quanto riguarda tutti gli strumenti pubblici la via è correttamente mappata ed esistente. Il problema continua a riguardare l'applicativo privato di Google che continua a rifiutare l'inserimento di via Bice Montuschi tra le strade più licensiche. È evidente che oggi nel 2023 questo è un problema perché facciamo sempre più affidamento per tanti servizi direttamente ai servizi di mappe fornite direttamente da Google e non da strumenti pubblici dei quali possiamo avere il controllo, col risultato che effettivamente tutti gli applicativi che spesso si appoggiano al database di Google non rilevano la strada. La strada comunque esiste, è correttamente mappata e tutto dal punto di vista formale, abbiamo verificato anche informando i cittadini quello che potevamo fare per segnalare questo problema, lo abbiamo fatto. Non abbiamo purtroppo, questo è un problema generale, un sistema per segnalare errori dal punto di vista istituzionale a Google e quindi il problema persiste e da questo punto di vista non ha neanche una soluzione se non invitare tutti i cittadini a fare l'unica procedura che esiste che è quella di una segnalazione personale tramite l'app di Google che in quella zona c'è un problema e che Google deve andare a fare un sopralluogo per mappare una strada che è correttamente accessibile all'uso pubblico. Dal punto di vista dei rifiuti credo che forse la questione sia stato un disallineamento nei tempi che ci si aspettava per quello che era la comunicazione nel sopralluogo da parte dei tecnici di ERA per individuare quelle che erano le posizioni dove il condominio avrebbe dovuto conferire i propri bidoncini per la raccolta porta a porta individuale che sarà attivata a giorno. C'è qualche ritardo nell'arrivare dietro a tutte le segnalazioni però abbiamo verificato anche con ERA e avevo già informato comunque alcuni cittadini che abitano nel condominio che a giorni sarebbero passati i tecnici di ERA per fare il sopralluogo dovuto prima dell'attivazione del servizio 27 di febbraio. Non so se questo è successo ad oggi e nel caso comunque risollecitiamo ancora ma i tempi ci sono ancora tutti. Vorrei tranquillizzare che i cittadini pagano la Tari perché sono regolarmente censiti nel database delle utenze Tari, sono quindi stati oggetto delle comunicazioni postali da parte di ERA per informarli dell'attivazione del servizio, è probabile che anche le persone incaricate quella mattina magari di dover andare a portare come nelle vie limitrofe i bidoni utilizzassero Google Maps per capire dove erano le vici modusche non trovandola forse si siano tornati a casa in maniera molto diretta. Abbiamo fatto segnalazione perché, diciamo così, prendere in considerazione di dover andare in quel posto per consegnare i bidoni di città. Credo che la cosa ci sia favorevolmente risolta già in questi giorni. Grazie Assessore, capogruppo si può replicare? Grazie della risposta. A ieri mi risulta che non fosse ancora stata risolta e loro, può essere che qualcuno non li abbia trovati, ma loro sono andati anche direttamente in ERA a chiedere informazioni sulla loro situazione, però non hanno ricevuto risposte proprio perché secondo quello che mi hanno detto ad ERA non risultava con la via. Anche ERA gli ha detto che non risultava con la via. Grazie Assessore, vuole aggiungere qualcosa? Vuol dire che nel database degli utenti tari e di ERA esiste sotto due nomi, metà del condominio è registrato sotto via Montuschi, l'altra metà è registrata sotto via Beach Montuschi, quindi al di là di qualche difetto di comunicazione, ci sinceriamo comunque che entro lunedì prossimo i bidioni vengano consegnati e il materiale sia inviato. Grazie, procediamo con l'interrogazione dal titolo Incrocio-Curso Garibaldi, intersezione Viale delle Ceramiche, Viale 4 novembre, da parola al Vice Presidente Penanzi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che ormai da svariati mesi l'incrocio di Corso Garibaldi alla mattina dalle 7.30 alle 8.30 e non solo, aggiungo, è inaffrontabile, come si evince dalle foto allegate? Spiego che nelle foto allegate ai colleghi, chi mi ha inviato le foto era fermo al semaforo verde. Considerato che l'incrocio di Corso Garibaldi rappresenta per i cittadini di Faenza uno snodo fondamentale per uscire dal centro della città, per procedere verso l'autostrada e che permette di raggiungere un importante tessuto industriale, il tutto comporta un rischio giornaliero di incidenti e di potenziali infrazioni che inevitabilmente si commettono, oltre a essere causa di ritardi non calcolabili dai cittadini. Si chiede al Sindaco e alla Giunta se si era a conoscenza della problematica, di trovare un rimedio per prevenire incidenti e migliorare una situazione ormai critica, di intervenire prima, in futuro, in situazioni simili. Spiego meglio questa richiesta. Mi piacerebbe capire se si sa, e non potevo fare 5 interrogazioni, altri incroci che mi sono già stati segnalati di Faenza, dove sono inaffrontabili alla mattina, la pausa pranzo e al rientro la sera. Quindi capire se c'era un monitoraggio per prevenire un po' questa interrogazione che sto facendo. Grazie. Grazie a lei Vicepresidente, la parola all'assessora Barzaglia. Grazie, buonasera. Allora l'incrocio chiaramente non è critico da diversi mesi, ma è tenzionato per le sue criticità da diversi anni, per non dire decenni. La criticità non sta solo in quell'incrocio, ma in tutto l'asse stradale. Negli anni sono state fatte tante analisi dei carichi di traffico e anche tante progettualità che poi per questioni anche legate alle normative non si sono mai potute sviluppare. Le analisi ovviamente hanno compreso quello che è un perimetro più ampio e che comprende quell'incrocio che ricordiamo è compreso tra due semafori e in una via, come dicevamo, di alta intensità di carichi di traffico e che comprende l'accesso alla viabilità per gli autobus in quanto comprende tra i due semafori c'è un'autostazione e c'è una caserma dei vigili del fuoco. Dopo appunto queste attente valutazioni che si sono fatte negli anni e sono state consegnate diverse ipotesi di lavoro e alcune si stanno concretizzando. Sicuramente due opere importantissime che permetteranno di rendere migliore la qualità del traffico di quell'incrocio ed anche della tratta stradale sono sicuramente due. Una parlo della rigenerazione urbana della stazione per i quali sono stati affidati i lavori e partirà almeno si insedierà al cantiere entro il mese di marzo che avrà un ruolo strategico su due fronti. Il primo l'intermodalità dei trasporti, quindi avendo le stazioni e comunque sarà la sede dei principali mezzi di trasporto nella città ci potrà aiutare a migliorare quella che è la mobilità sostenibile e sicuramente ci aiuterà ad evitare di caricare quell'asse stradale ancora. Lo spostamento della caserma dei vigili del fuoco è un'altra delle azioni che se è deciso di praticare proprio per andare incontro anche a questa esigenza, anche questa avrà una doppia funzione, rendere più efficace il lavoro e lo spostamento dei vigili del fuoco e mettere sicuramente in sicurezza la loro uscita che ripeto è in mezzo a due semafori in un incrocio ad alta intensità di traffico. Insieme a questo le nuove analisi del traffico che si stanno facendo anche per, diciamo così, sono state richieste anche dal Consiglio Comunale sugli azzi stradali, la circonvallazione, insomma tutte le analisi che sono state richieste insieme a questo, quindi le analisi del nuovo traffico, del traffico diciamo attualizzate ci permetteranno di fare anche altri ragionamenti. Quindi sì, questo incrocio lo conosciamo e diciamo che l'impegno di queste due importanti opere va proprio in questo senso, va per cercare di risolvere quello che effettivamente è un problema. Grazie Assessora, Vicepresidente, prego. Grazie della spiegazione, tutte cose che ovviamente sapevamo già ed eravamo felici di questi spostamenti a Sesti, cerco di spiegare una piccola cosa, poi non è all'argomento oggi, ma chiederei magari una commissione o qualcosa per poter capire. Faccio parte del progetto Sicurezza a cui ho partecipato, la commissione della consulta, su cui si è parlato anche nei giornali. Allora, basta una ciclo predonabile fatta meglio, dove capisce anche solo il ciclista come attraversare l'incrocio. Credetemi, se mettete una telecamera e andate a vedere, anche normalmente nel momento di non traffico, come passano le biciclette e i pedoni, tutte le volte, specie nella parte cieca, quando uno attraversa la stessa pedonale, è veramente un caos. Quindi io dico che nell'attesa di queste modifiche, per me con poco, come ho detto altre volte, non è il mio mestiere, posso solo aiutarvi a darvi delle indicazioni di quello che ci dicono i cittadini che tutti i giorni percorrono quella strada, però veramente delle volte credo basti il buonsenso. Quindi la ringrazio della risposta, esauriente da una parte, dall'altra parte mi piacerebbe riuscire a capire quali sono i movimenti. Ultimissima cosa, non ne faccio un'interrogazione in seduta stante, però ieri c'era Via Naviglio chiusa in ingresso dalla parte per andare a invia 20 settembre, non c'erano cartelli stradali, c'era la città paralizzata, non c'era modo di andare dall'altra parte, zona monte, e quindi io dico delle volte anche solo saperlo prima o capire come solo l'organizzazione, e queste cose mi sono capitate tante volte e non capitano a me. La gente ci chiama, come dico altre volte, credono che noi lavoriamo in comune, a stretto contatto con gli assessori, ma in me non è così. Quindi grazie alla risposta, ma la terza domanda era capire se ci sono altri punti nevralgici che sapete già, se no potete tranquillamente chiamarmi, che ci sono a spiegarvi come vedo i punti critici della mia città a cui tengo, ma credetemi a volte inaffrontabili. Le rispondo a una battuta che mi fece, non mi ricordo in che riunione, i figli li portiamo a scuola o li portano a scuola e si va a lavorare, ma si torna anche a scuola, quindi il piedibus, tante cose, non è solo in entrata, è anche in uscita o viceversa, quindi è veramente complicata sia quell'incrocio ed altri. Grazie del tempo. Grazie a lei vicepresidente, a posto. Procediamo quindi con la prossima dal titolo Velox, la parola al consigliere Padovani. Grazie presidente, buonasera a tutti. Di recente è uscita dalla sulla stampa la sentenza di un giudice che ha accettato il ricorso fatto da un automobilista che nel giro di pochi giorni avrebbe preso ben 11 multe. La motivazione di tale annullamento sarebbe proprio l'installazione del Velox non corretta. Considerato che in quel breve periodo, che va da agosto a settembre del 2022, quel Velox ha rilevato migliaia di infrazioni. Rilevato che sulla base di tale annullamento sentenziata dal giudice è doveroso pensare che anche tutti gli altri immobilisti siano stati mutati in maniera ingiusta, anche se non hanno fatto ricorso. Si chiede se l'amministrazione comunale ritenga di intervenire annullando le sanzioni e con il conseguente rimborso. Grazie a lei, Assessore Bosi per la risposta. Grazie Presidente. Ancora una volta su questo argomento, ma soprattutto per chiarire e ribadire che l'amministrazione e la Comune di Firenze sull'installazione di quei Velox ha sempre agito nel rispetto delle norme e dei decreti prefettivi che sono stati emanati. Quindi il cittadino assolutamente ha tutto il diritto di fare ricorso e questo è un suo diritto, però noi riteniamo di avere fatto tutto secondo le normative e quindi di conseguenza se lo riterremo opportuno i nostri uffici andranno in appello perché la sentenza del giudice di pace è il primo verdetto ma ovviamente come ente lo impugneremo e andremo in appello e poi di conseguenza con tutta la documentazione già data sia ovviamente al giudice di pace quando ci sono questo tipo di sentenze o alla fine fino alla Cassazione dove ci sono invece tantissime sentenze che invece giustificano ciò che ha fatto questa amministrazione per l'installazione di quei Velox e questo è comunque come intendiamo procedere, ribadisco che quegli autovelo che sono stati montati secondo quello che sono le normative, quindi su questo deve essere chiaro perché parecchie notizie sono uscite sulla stampa in cui sembra che questa amministrazione faccia i lavori a caso, non è così, ci sono normative e l'ente non fatto che poi politicamente se vuole si può discutere se è giusto mettere un Velox o non è giusto mettere un Velox, questo ammetto che ovviamente è una discussione o una scelta politica, però su come viene montato ci sono delle normative e visto che ci sono tecnici che firmano le relazioni penso che il loro lavoro lo debbano fare secondo quello che è l'indicazione, la ditta ha fornito tutta una documentazione su come sono stati montati i Velox sia in prima battuta che in seconda battuta, loro ritengono assolutamente di essere nelle regole anche in prima battuta anche se a seguito delle discussioni come abbiamo già detto sulla stampa e come abbiamo condiviso con la prefettura non abbiamo spostato il Velox perché ritenevamo che fosse errata la posizione, l'abbiamo spostata visto il caos immediatico che si era creato e condiviso con la prefettura di mettere un cartello più grande e di conseguenza spostare il Velox, ribadisco che il Velox comunque non è cartello infrangente quindi di notte in ogni caso non si vedrebbe e quindi tutti quelli che prendono la muta di notte potrebbero fare ricorso con quel tipo di ragionamento, è il cartello che si deve vedere, se voi percorrete via la Sirelli noterete come il cartello si vede abbondantemente, proprio molto caos di frangente e quindi se uno passa a una velocità superiore al limite si prende la sua muta e penso che essere qui a discutere di chi viola le regole sia assolutamente fuori luogo e tutto tempo che ovviamente questo consiglio non dovrebbe tenere. Grazie Assessore, Consigliere prego. Ringrazio l'Assessore per la risposta, mi ha fornito elementi utilissimi che utilizzerò nella discussione dell'ordine del giorno alla fine del giorno. Grazie a lei, procediamo, la prossima interrogazione dal titolo Gringo Bass, la parola alla Consigliera Conti. Grazie, buonasera a tutti. Il Comune di Faenza è da più di un anno che afferma di avere in programma il ripristino Paenza offre un servizio gratuito di navetta con lo scopo di collegare la periferia al centro. Questo servizio viene integrato al trasporto pubblico urbano preesistente. Questo servizio è svolto dal Gringo Bus, un bus innovativo costituito da un minibus elettrico pensato per facilitare il raggiungimento del centro di Faenza in modo comodo, veloce, ecologico e totalmente gratuito. Considerato che l'amministrazione nei giorni scorsi ha annunciato che questo fondamentale servizio subirà vari cambiamenti, quello più importante sarà l'attivazione del servizio al centro commerciale Il Borgo, in via Fornarina. Questa modifica sostituirà la tratta che precedentemente collegava il centro commerciale La Filanda, al centro della città. Evidenziato che il principale obiettivo del servizio di navetta gratuita, come scritto nel sito del comune di Faenza sotto la voce trasporti, è quello di collegare il centro ai parcheggi scambiatori. Con la nuova rimodulazione verrà a meno questo importante principio, dato che la presenza di un parcheggio grande, come quello presente al centro commerciale La Filanda, non verrà più sfruttato. Il collegamento con quest'ultimo, inoltre, rappresentava un trasporto fondamentale per chi doveva svolgere diverse funzioni e commissioni, evidenziato anche che nelle vicinanze sono presenti diversi servizi, tra cui anche quello della USL Romagna. Si chiede al Sindaco la Giunta quale sia stato il costo del servizio di navetta gratuita del Gringo Bus dalla sua attivazione fino ad oggi e quale sia il numero di persone che giornalmente utilizzano il servizio sopra menzionato. Grazie a lei per la risposta. L'assessora Barzacchia, prego. C'è scritto interpellanza con risposta in forma scritta, rispondo a voce? Va bene? Ecco. Allora, se siamo a conoscenza della situazione sopra descritta, chiaramente sì, perché diciamo che questa modifica parte proprio da noi, parte da tutta una serie di valutazioni che ci portano a pensare che comunque sia più efficace la navetta spostata in zona borgo, chiaramente non dimenticandoci di coprire quella che è la zona attualmente coperta dal Gringo che sarà coperta dalla linea TPL di cui entro i fini della settimana andremo ad annunciarne le modalità operative. Allora, la domanda è quale sia stato il costo del servizio navetta gratuita Gringo dalla sua attivazione fino ad oggi. La navetta ha per il piazzale Pancrassi centro storico quella che chiamiamo linea A, un costo anno di 208.078,18. Qui ci sono due navette che circolano e quindi parliamo di un costo di 104.036 a navetta per un totale di 366 passeggeri al giorno e quindi parliamo di circa 187 passeggeri per ogni navetta. Per quanto riguarda invece il centro città parcheggio scambiatore La Filanda alla linea B scosto 100.900 euro e la media giornaliera dei passeggeri è di 99. Quindi diciamo che questa media ci fa intuire che anche con un aumento il parcheggio scambiatore che siamo andati con un aumento di passeggeri ad identificare in un'altra area della città sia comunque un parcheggio che sia in grado di contenere le auto per chi usufruisce appunto della navetta e del parcheggio scambiatore. Alla domanda quindi quale sia il numero di persone che giornalmente utilizzano il servizio sopra menzionato è questo, dico solo che nei ragionamenti che ci hanno comunque portato a portare delle modifiche abbiamo considerato anche i passeggeri delle altre linee che non sono i passeggeri delle linee del gringo che quindi con gli abbonamenti scolastici parlo solo del trasporto pubblico locale quindi non parlo delle linee extraurbane che escono dalla città ma parliamo di un dato annuo di 602.714 passeggeri per il 2022 quindi significa per ogni linea circa 400 passeggeri al giorno. Quindi è chiaro che nell'ipotesi riorganizzativa che stiamo portando avanti che è comunque sempre in evoluzione abbiamo tenuto conto dei dati complessivi e per tornare anche all'argomento di cui abbiamo parlato prima che era il carico di traffico proprio anche per scaricare quell'asse che comunque è un borgo centro che comunque è un asse che ha delle criticità importanti e per diciamo avvicinare la navetta elettrica anche a quello che è un polo scolastico e comunque polo sempre in funzione del centro storico. Non è nostra intenzione e stiamo lavorando da un po' di mesi per questo scoprire la filanda e la tratta che comprende quindi casa della salute, parcheggio, scambiatore e comunque tutto il polo che attualmente è coperto dalla linea B del Gringo e in settimana quindi stiamo ultimando le modifiche e daremo le modalità operative con cui varierà una linea per andare a coprire quella tratta lì. Grazie Assessora, Consigliera, prego se vuole replicare. Grazie. Perfetto, procediamo con la prossima dal titolo Aggiornamento Colonia Casterraniero, la parola al Consigliere Cappelli. Grazie Presidente. La Colonia di Casterraniero costituisce un luogo di memoria per la comunità feintina, monumenti ai caduti della Grande Guerra, Colonia Aeroterapica per bambini, in particolare per gli orfani di guerra, luogo in cui durante e dopo i bombardamenti nel 1944 vennero trasferiti quasi tutti i reparti dell'ospedale civile, colonia infantile estiva, teatro di iniziative pubbliche e spazi di grande valore paesaggistico, in cui la cittadinanza si riconosce. Premesso che la Colonia di Casterraniero verte tuttora in una precaria condizione di stabilità, qualche mese fa l'amministrazione comunale è stata costretta ad attuare dei lavori di sommorgenza per evitare che la struttura forse vittima di crolli localizzati. Per l'intervento di Ripristino è stato stanziato ormai tre anni fa un finanziamento dal Ministero per i beni culturali dall'importo di 3 milioni e 700 mila euro. Come stazione appaltante per la redazione del progetto e l'affidamento dei lavori di Ripristino è stato individuato dal Ministero il Segretariato regionale per i beni culturali. Ad oggi non risulta che siano stati fatti avanzamenti significativi nelle procedure che possono condurre al rapido avviamento dei lavori. Tali rallentamenti rischia o di pregiudicare l'effettiva possibilità di completare l'intervento nei tempi previsti dal PNRR. L'amministrazione comunale ha sollecitato uno sblocco della situazione e ha messo a disposizione il proprio personale per consentire di procedere con la redazione del progetto e con l'affidamento dei lavori. Tenuto a conto di tutto questo, si chiede all'assessore di competenza quali sono i passi e gli atti formali compiuti e che possono ulteriormente essere compiuti per sollecitare il Segretariato regionale per i beni culturali, quali strade e iniziative il Sindaco e la Giunta hanno intenzione di perseguire ulteriormente per giungere a una concretizzazione dell'intervento. Se si intenda porre in campo risorse umane e competenze proprie della nostra amministrazione affinché l'intervento di ripristino possa giungere a buon fine e il finanziamento assegnato possa essere compiutamente speso. Quali sono infine le ipotesi che si sono vagliate per scegliere la destinazione finale dell'edificio e contenuti che si ipotizza di sviluppare all'interno degli spazi della colonia, una volta completato l'intervento? E infine se si siano già state sperite attività per costruirne i presupposti di sviluppo? Grazie. Grazie a lei consigliere, risponde il signor Sindaco, prego a lei la parola. Grazie Presidente, grazie consigliere, ma questa interpellanza ci aiuta a chiarire un po' la situazione, l'iter riguardo alla colonna di Castellaniero che come è stato detto ha percepito un finanziamento importante dei grandi progetti beni culturali nel piano strategico nazionale dell'allora MIBACT e questo cantiere, i grandi progetti beni culturali prevedeva che i lavori non fossero affidati a soggetti di territorio, ma che i lavori dovessero essere interamente realizzati dal segretariato regionale del Ministero della Cultura, regione per regione. Noi dopo diversi mesi dalla ufficializzazione del finanziamento siamo riusciti a incontrare il segretariato regionale, che in una riunione verbalizzata ha espresso la sua volontà di intervenire, di concretizzare un progetto di ristrutturazione con una completa gestione del cantiere, così come prevede la legge e come prevedeva questo capitolo di grandi progetti diretta da parte del segretariato. È passato del tempo, nonostante le nostre sollecitazioni non sono state fatti passi avanti, noi ci siamo attivati per costruire questo piccolo percorso di lavori di sommorgenza attraverso anche un'azienda del territorio perché vedevamo che la Torretta aveva bisogno di questo intervento, il segretariato ci ha concesso questa deroga di poter essere noi a svolgere i lavori di somma urgenza nonostante la titolarità del cantiere fosse di pertinenza nazionale. Abbiamo fatto quel lavoro e poi dopo qualche mese, finalmente, dopo una serie di interlocuzioni siamo arrivati a una novità sostanziale. La novità è che il segretariato ha espresso la volontà di interpretare un percorso alternativo. Questo percorso è quello di creare un accordo con la nostra municipalità per la realizzazione dei lavori. Quindi c'è una novità sostanziale che tutti i procedimenti amministrativi relativi all'iter progettuale, le funzioni di stazione appaltante, contrente di direzione ai lavori, vengono delegati direttamente al comune di Faenza. Questo è quello che ci è stato chiesto in questa fase, dopo mesi di sollecitazione. Il segretario regionale resterà invece la funzione di controllo di ogni fase dell'intervento, della progettazione alla corretta e regolare esecuzione dei lavori, fino alla conclusione del collaudo. Il cliente proprietario, che ricordiamo è l'ASP, dovrà invece trasmettere al comune tutte le autorizzazioni necessarie per la consegna temporale del bene, la documentazione tecnica esistente e fornire disponibilità di proprio personale tecnico a far parte dell'ufficio di direzione lavori. Questa è la proposta che ci è stata fatta dopo nostra grande sollecitazione. Questo ovviamente da un lato è motivo di felicità, dall'altro è sicuramente ancora una volta una presa in carico di una responsabilità, così come è avvenuto pochi mesi fa in ordine a due PNRR legati a luoghi di culto per i quali la prefettura ha chiesto ai comuni di essere stazione appaltante e coordinamento lavori, anche in questo caso era una responsabilità che dovevamo prenderci. Evidentemente questa responsabilità avviene in un momento nei quali i nostri uffici dei lavori pubblici sono coinvolti nella realizzazione di oltre 15 progetti PNRR oltre l'attività ordinaria. Quindi un impegno veramente importante, ma come diceva anche il consigliere, il senso, il sentimento, la funzione che svolge quello spazio per la comunità ci porta a questa scelta. In questi giorni stiamo perfezionando questo contratto a tre e siamo convinti di poterlo firmare il prima possibile. Ovviamente per quanto riguarda i contenuti, alcune specifiche profonde saranno possibili solo nel momento in cui capiremo col progetto esecutivo questi 3.700.000 euro che cosa significano in una fase di trasformazione dei costi delle materie prime in termini di possibilità concrete di ristrutturazione dell'edificio. L'uso pubblico dello spazio è la condizione qua non che faceva parte del perimetro del bando del MIC, nel senso del Ministero della Cultura e quindi rimarrà al tema centrale. Abbiamo individuato e condiviso con la soprintendenza, in questo caso territoriale, contenuti sociali, educativi e di ricerca e promozione di tematiche ambientali. Questi sono i tre grandi ambiti sui quali vogliamo lavorare. Abbiamo ovviamente interloquito con diversi soggetti, diversi portatori di interesse, diverse traiettorie organizzative legate a questi tre grandi ambiti. La possibilità di definire nel dettaglio sarà possibile nel momento in cui una volta realizzato il progetto esecutivo sapremo un timing e soprattutto la funzionalità degli spazi che riusciremo a rigenerare. Fermo restando che tutto il progetto nasce con il MIC, allora MIBACT, disponibile non solo al tema cantiere ma a valutare anche questo finanziamento come uno step integrabile. Quindi sicuramente la caduta specifica sarà successiva alla concreta capacità di vedere cosa riusciremo, il progetto cosa riuscirà a rigenerare. Grazie Sindaco. Consigliere si vuole replicare, prego. Ringrazio il Sindaco per la risposta molto chiara. Grazie a lei. La prossima dal titolo di Missioni Sindaci e Revisori Fondazione Banca del Monte, la parola al Capogruppo Bertozzi. Grazie Presidente, do lettura dell'interrogazione. Premesso che con delibero numero 102 del 20 dicembre del 2022 il Consiglio Comunale, a maggioranza dei propri membri, ha approvato l'espressione di indirizzo per la messa in liquidazione della società Terrenaldi, autorizzando in particolare il liquidatore a valutare, sin da allora, l'opportunità di effettuare la scissione parziale dei rami di azienda a favore della società Favenzia Sales, inviando al Consiglio di Amministrazione di Favenzia Sales documentate richieste in tal senso, così da poter esprimere un giudizio circa la scelta di essere la società beneficiaria della scissione parziale di Terrenaldi. Favenzia Sales, S.P.A. è società partecipata dal Comune di Faenza al 46% e dal 9 era altresì tra i propri soci la Fondazione Banca del Monte Cassa di Spano di Faenza, la quale detiene una quota di partecipazione pari al 31% del capitale sociale. La Fondazione Banca del Monte Cassa di Spano di Faenza è un'istituzione di natura giuridica privata, senza fine di lucro, che opera al servizio del territorio faentino e del suo comprensorio, con obiettivi di utilità sociale e di promozione e di risviluppo del capitale umano, culturale ed economico. E già questo ci fa capire che molte volte la Fondazione si trova a lavorare a stretto contatto con l'amministrazione pubblica su ambiti che sono anche vicini. Considerato che sono giunte all'interrogante, informazioni al momento non riscontrabili, che vedono l'intero collegio sindacale, questo è un fatto, della citata fondazione, composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, interamente dimissionario. Le ragioni sarebbero da ricercare nella mancata e piena informazione documentale procedurale relativa all'annunciata scissione parziale del ramo d'azienda di Terra Enaldi in Faenza e Sales S.P.A. Per queste ragioni intera che il Sindaco e l'assessore delegato per conoscere, è a conoscenza l'amministrazione comunale di questo accadimento, peraltro è stata riportata anche da Emilia e dalla stampa locale. Se sì, può confermare che effettivamente le ragioni della dimissione sono collegate all'operazione straordinaria citata in premessa che coinvolgono due partecipati del Comune di Faenza? Se no, poiché l'impatto diretto ed indiretto sul Comune di Faenza appare evidente, intende l'amministrazione attivarsi presso il secondo socio privato di Faenza e Sales, 31%, per capire se quanto qui segnalato corrisponde a verità e quali sono le ragioni che ne stanno alla base, richiedendo anche idoneo supporto documentale, che questo sarebbe importante andare a vedere le carte, almeno quelle che si possono vedere. Se ciò corrisponde a verità, quali potrebbero essere i problemi sostanziali o formali che hanno portato alle dimissioni? Soprattutto questi problemi potrebbero avere un risvolto economico, patrimoniale, finanziario, contabile se non anche fiscale per il Comune di Faenza. Faccio una chiusura molto rapida, a me interessano poco le dinamiche che nascono e sorgono all'interno della fondazione, se non per le interessenze che queste hanno con l'amministrazione comunale di Faenza e con questo Consiglio Comunale indirettamente. Quindi la preoccupazione nasce tutta lì e sono ancora più preoccupato oggi rispetto a questo 31 gennaio, quando scrivevo questa interrogazione, avendo letto delle dimissioni non motivate, o non motivate adeguatamente, neanche nella risposta della fondazione, della dottoressa Casali, che è un membro del Consiglio di Administrazione. Perché la fondazione, se è vero che ha dichiarato che la vicenda Terra Reinaldi non rileva, nonostante quello che a me invece risulti, non è stato detto il perché o non è stato chiarito il perché. Io credo che vista la rilevanza di questo aspetto, sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale chiedesse formalmente il perché di questa situazione. Grazie. Grazie a lei per la risposta, la parola al Signor Sindaco. Grazie Presidente, grazie Capogruppo. Sì, come giustamente ha ricordato, consigliere della Fondazione Banca del Monte, Casso Risparmio di Faenza, come il resto tutte le fondazioni bancarie o di origini bancarie sono di natura privata e con piena autonomia statutaria e gestionale. Io lo preciserei per due ragioni fondamentali. Primo, per quanto riguarda la Fondazione Banca del Monte, Comune di Faenza è parte in causa come soggetto esterno, come diversi altri soggetti nei limiti stati dello statuto e dai regolamenti. Poi, come su altri soggetti che operano sul territorio, ovviamente lavorando sulla città, il perimetro urbano, ci sono collaborazioni, progetti che in diverse occasioni si intersecano, ma ovviamente riguarda il ruolo di Faenza. Stiamo all'interno di uno statuto e di regolamenti ben delimitati come soggetto esterno. Abbiamo visto, questo è bene sottolinearlo, in tante situazioni, alcune anche molto eclatanti a livello nazionale, cosa accade quando la politica predente di entrare in questi campi e cercando di condizionare l'azione di istituzioni che per loro natura sono indipendenti. Io credo che l'autonomia della Fondazione nella storia di Faenza, di tutti questi anni, sia un valore da tutelare e come sindaco intendo contribuire a preservarlo. Credo che la storia di questi decenni di azione della Fondazione del tessuto sociale, scolastico, culturale, economico, sia una storia che pretenda la totale autonomia rispetto all'ente pubblico. Due, nel pieno rispetto di questa autonomia e del lavoro degli organi, della Fondazione e delle persone che vi operano, credo che occorra soprattutto in contesti istituzionali come questi essere molto cauti sul tema del condizionale, nel senso che il tema delle fonti è un tema forte per le istituzioni e credo che in questa analisi, in tanta parte di dibattito, le fonti sulle quali si sono costumiti dei condizionali siano molto fragili, siano molto poco dimostrabili, molto poco oggettive per quanto si parla di istituzioni così radicate, così profonde. E premesso questo, ovviamente, dico questo, dico che anche io ho preso le dimissioni dei membri del collegio sindacale e non conosco le motivazioni specifiche. Su questo non posso fare altro che riportare anche in questa sede la fonte, invece, al netto di sentito dire rispetto a una questione così delicata, unica che mi pare di aver trovato nel dibattito pubblico che sono la nota ufficiale espressa dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio. Quella è una fonte per le istituzioni, che ha spiegato che il collegio sindacale non si è dimesso né per ragioni irriconciliabili alle funzioni di cui è incaricato un organo di controllo, né per divergenze sulle questioni relative alla possibilità di un'eventuale redistribuzione di alcuni asset, oggi gestiti da terra in aldi. Così come è apparso su un articolo di giornale e argomento trattato in Fondazione unicamente a titolo informativo, confermando l'interesse a valutare l'operazione e rinviando ogni delibera in seguito al ricevimento dei dati che emergeranno dall'indagine economico-patrimoniale avviati da Favenzia Sales, di cui la Fondazione è socia. Di tale avviso è sempre stato anche il collegio sindacale che quale organo di controllo ha sempre approvato e ritenuto corretto l'operato dell'organo amministrativo. Quindi la fonte di cui oggi disponiamo ci dice questo in merito a ciò che è stato detto in precedenza e mi attengo ovviamente alla fonte che in base alla posizione che sostiene. Al momento non intravedo in nessun caso potetiche conseguenze sulle dinamiche di bilancio finanziario e fiscale della nostra municipalità. Per quanto riguarda le dimissioni della dottoressa Claudia Casali, nominata dal Consiglio di indirizzo, in rappresentanza del Monte Culturale Fantino, anch'io ne ho avuto comunicazione ufficiale l'8 febbraio, si tratta di una decisione assunta in autonomia da una persona il cui persiglio personale e professionale non è in discussione e che merita rispetto. La Casali ha scritto anche a me insieme al direttore dell'attestato giornalistica che ha costruito anche lì con tanti condizionali le motivazioni che doveva avere la direttrice di queste istituzioni per questa scelta, mi risulta credo che poi il giornale lo pubblichi, nella quale scrive pubblicamente che le sue dimissioni nascono da motivi strettamente personali che non hanno nulla a che fare né con il MIC perché si citava spesso la fondazione e in quell'articolo non si capiva se fosse dimessa dal Museo delle Ceramiche, né con il Comune né tantomeno dice la direttrice con Faventia Sales ma confermo solo per motivi personali. Al momento le fonti di cui dispongo sono queste e non ci creano motivi di allerta rispetto alla ricaduta di questi eventi di un soggetto privato sulla dinamica pubblica sia pubblica sia dell'attività amministrativa e della municipalità. Grazie. Grazie a lei signor Sindaco, prego capogruppo se deve replicare. Grazie, ma molto brevemente, non sono soddisfatto della risposta e questa non sarebbe neanche una novità perché tendo a ripetermi quando dico queste cose, però due considerazioni al di là delle facili battute le voglio fare. Io quando cito, noi come consiglieri comunali riceviamo diverse segnalazioni e ritengo che ci sia anche un dovere da parte nostra, un dovere istituzionale di dire quello di utilizzare l'indicativo quando possiamo citare elementi certi e di utilizzare il condizionale quando questi elementi certi non ce li abbiamo ma abbiamo ragione di ritenere che possa essere così. Come dicevo, io mi sarei aspettato, perché sono insoddisfatto? Perché mi sarei aspettato che comunque questa amministrazione avesse chiesto formalmente c'è qualche problema perché le implicazioni, l'operazione che si sta andando a fare su Terra Renaldi ha delle implicazioni di carattere potenzialmente elusivo. Il mio campanello d'allarme è legato esclusivamente a questo, stiamo parlando di illusione fiscale, anche perché dagli elementi che ci sono stati messi a disposizione in occasione di quella delibera non eravamo in grado di esprimere un giudizio compiuto. Io però colgo l'occasione per fare un'altra considerazione, questa qui di carattere politico, signor Sindaco. Noi abbiamo votato la delibera di indirizzo su Terra Renaldi a dicembre 2022, esattamente il 20 dicembre 2022. Bene, ecco, lei prima che il Consiglio Comunale le desse mandato per prendere questa decisione ha partecipato ad un'assemblea di Favenzia Sales, dove ha annunciato prima ai consiglieri di amministrazione, tra cui anche i consiglieri di amministrazione della fondazione presenti nella persona del Presidente, questo progetto, tandolo sostanzialmente per scontato. Le fonti, questi sono i verbali di assemblea che voi stessi mi avete. Ecco, io questo lo ritengo uno sgarvo istituzionale, perché lei avrebbe dovuto, prima di vendere, tra virgolette, mi si è consentito il termine, questa decisione come già presa, aspettare la delibera del Consiglio Comunale, che chiaramente le ha dato ragione, visto la maggioranza consigliare che sostiene questa. Però è illegittimo, no, non è illegittimo, è uno sgarbo istituzionale, sì, è uno sgarbo istituzionale che credo vada ad aggiungere un altro tassello a tutta questa vicenda. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Facciamo l'ultima interrogazione dal titolo ASP, lascio la parola alla consigliera Conti, prego. Le aziende pubbliche di servizi alla persona ASP hanno lo scopo di fornire un assetto più strutturato e funzionale al sistema di produzione e derogazione dei servizi per le persone di o nelle fasce d'età. Ai sensi della legge regionale 2-2003, le ASP sono aziende di diritto pubblico senza fini di lucro. Si caratterizzano come aziende dei comuni per garantire omogeneità di accesso a tutti i cittadini della nostra regione. Considerato che l'ASP della Romagna Paentina opera anche nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e di sostegno presso diverse residenze per anziani, tra cui il contalone di Paenza, via Bennoli di Solarolo, Castel Bolognese e Cognano. Abbiamo appreso nei giorni scorsi che presso la struttura Casa Protetta di Cognano il costo della retta giornaliera degli ospiti è aumentata passando dai 52 euro del 2018 a 82 euro giornalieri ad oggi. Questo evidenzia un aumento mensile pari a euro 900. Questo aumento pesa gravemente sulle spalle delle famiglie che segnate già da una situazione economica avversa si ritrovano maggiori spese anche per la cura dei propri cari. Evidenziato che l'ASP della Romagna Paentina opera anche in diverse strutture della nostra città, come la residenza in Contalone, si chiede al Sindaco La Giunta se sia una conoscenza della situazione sopravdescritta, se ci siano stati anche un aumento di prezzo delle rette nelle strutture di Paenza e se sì, come risponderà l'amministrazione per non far gravare un periodo riposte alle famiglie. Grazie. Grazie a lei, Assessora Gresti per la risposta, prego. Grazie Presidente, sì, per quanto prolisso nella risposta precedente, sarà molto sintetico, per questo al momento non è previsto un aumento in quanto il servizio sulla città di Faenza e in conseguenza l'organizzazione non è attivo, quindi non sono previsti un aumento da questo punto di vista. Grazie, Assessore. Consigliera, prego. Grazie. Posso chiedere se la mia interpellanza di prima possa venire in forma scritta anche? Quella sul Gringo Bus, Assessora? Grazie mille. Abbiamo terminato il secondo punto all'ordine del giorno, quindi terminato lo svolgimento di interrogazioni, procediamo col terzo punto, la prima delibera, dal titolo indirizzi al Consiglio dell'Unione della Romagna-Faintina per l'approvazione della convenzione fra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e l'Unione della Romagna-Faintina per il rinnovo dell'affidamento del Servizio di Difesa Civica Comunale al difensore civico regionale. Lascio la parola per la relazione al Signor Sindaco. Grazie Presidente. Noi con questa delibera proponiamo di aggiornare il rapporto, la convenzione tra l'Unione dei Comuni della Romagna-Faintina e la Regione sul tema del difensore civico. Lo facciamo attraverso un'indicazione che diamo all'Unione dei Comuni, che è il soggetto che deve garantire questo servizio. Il difensore civico è una figura di garanzia, nasce come figura di garanzia di tutela dei cittadini, che è prevista nel testo unico degli enti locali e nello statuto anche degli enti locali, quale l'Unione e i nostri comuni fanno parte. Nasce con il disegno di legge del 2000 al 267 come figura istituita a livello comunale, poi nel corso degli anni e per motivi di razionalizzazione e per anche impatto quantitativo della richiesta da parte dei cittadini di avvalersi di questa potenzialità, via via si è sostituita questa dimensione territoriale dal comunale al provinciale e al regionale e via via si sono costruite convenzioni tra i livelli municipali e i livelli regionali. È quello che è successo a noi, che abbiamo appunto costruito una convenzione con la Regione e oggi siamo con questo provvedimento da sottoporre al Consiglio l'approvazione per indicare all'Unione dei Comuni la possibilità di aggiornare questa convenzione. Questa convenzione non ha carattere oneroso per la nostra Unione, alla nostra Unione sono richieste solo due azioni, una di natura comunicativa, quindi la richiesta di pubblicizzare attraverso i mesi di comunicazione digitali, istituzionali dell'Unione questo tipo di servizio e due individuare all'interno degli uffici dell'Unione un punto di riferimento, un ufficio che possa aiutare sia nell'effusione di materiale informativo ma anche mantenere relazioni con l'ufficio regionale e noi abbiamo individuato all'interno dei nostri uffici, degli affari istituzionali, questo luogo di trasmissione e riferimento. Dicevo quindi che non ci sono costi, lo schema di convenzione ripete le caratteristiche del triennio precedente. Quali sono i principali ambiti e funzioni? Gli ambiti di distanza da parte degli utenti hanno riguardato in questi anni nello specifico il diritto d'accesso ai documenti amministrativi, il silenzio della PIA, i tributi e le sanzioni, mobilità e servizi di trasporto pubblico, servizi per il lavoro, concorsi e scuole, previdenza e pensione. Nel corso del triennio precedente, a dire le verità, le richieste di utilizzazione del difensore civico non sono state tante, parliamo per l'unione dei comuni di una decina di casi sostanzialmente ma crediamo che sia un servizio di quale i cittadini abbiano diritto e in questo modo riusciamo senza costi per gli enti pubblici a dare una risposta importante che i cittadini possano nel momento in cui abbiano un confronto articolato con l'ente pubblico utilizzare. Quindi stiamo a chiedere che l'unione dei comuni aggiorni questa convenzione triennale. Grazie, signor Sindaco. Apro la discussione. Chiudo la discussione e portiamo in votazione il punto numero 3, indirizzo al Consiglio dell'Unione della Romagna-Faintina per l'approvazione della Convenzione tra l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e l'Unione della Romagna-Faintina per il rinnovo dell'affidamento del servizio di difesa civica comunale al difensore civico regionale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per immediata esegubilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è approvata e immediatamente eseguibile all'unanimità. I votanti presenti erano 22, 23. C'è un errore nel sistema allora. Procediamo quindi al punto numero 4 e sentito anche l'assessore, la proposta è fare un'unica presentazione e unica discussione sui punti 4 e 5, visto che sono strettamente correlati tra loro, quindi andremo a presentare il punto 4 e il punto 5 insieme, che sono rispettivamente il punto 4, approvazione variante acustica in correlazione alla previsione del PUA relativo al subcomparto B3, scheda 174 area colombarina del PRG comune di Faenza. Il punto 5 è adozione variante acustica in correlazione delle previsioni del PUA relativo al subcomparto B2, scheda 174 area colombarina del PRG comune di Faenza. Prima di lasciare la parola all'assessore, segnalo ai consiglieri che come segnalato dagli uffici proponenti, nel momento di redazione del testo della delibera ci sono stati alcuni errori materiali che hanno provveduto a correggere, nello specifico sulla delibera 4, numero 4, a pagina 3, nel primo punto del dato atto in fondo al periodo, si conclude con che nel caso sarà oggetto di distinto atto e quindi viene tolta la parte, l'allegato a reca lo schema esemplificativo e comparativo di tale evoluzione progettuale, questo viene tolto. Infine nell'ultima pagina, all'inizio dell'inciso sugli elaborati, annotati nel fascicolo URF, è un errore il fascicolo preso in riferimento, è il 18-2020 e non il fascicolo URF 11-2021 ed infine nella parte deliberativa il quarto punto viene sostituito con la frase di dare atto che il provvedimento non necessita di copertura finanziaria, stante la natura programmatoria dell'atto e che non ha riflessi sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente. Detto questo lascio la parola all'assessore. Sì, grazie Presidente, ho chiesto di fare la trattazione insieme perché si tratta sostanzialmente della stessa area, quella denominata Colombarina, tra la via San Silvestro e la via Piero della Francesca, quindi un grande quadrante della città dove già nel 2015 si era attivata la parte di urbanizzazione che riguardava il comparto A che corrisponde alla zona nella quale si trova il capannone della logistica che vedete su via San Silvestro. Tra l'altro di fianco era prevista la cessione dell'archivio comunale e un'ulteriore area edificabile per la realizzazione dell'ulteriore manufatto per vedere realizzare il completamento dell'archivio. Detto questo si tratta sostanzialmente della modifica acustica per adeguare quello che è la progettazione man mano che avanza nel dettaglio da quello che era la pianificazione dello strumento urbanistico fino alla realizzazione dei singoli lotti. In questo caso si tratta di due aree, il subcomparto B2 e il B3 che hanno due destinazioni leggermente diverse perché uno è un'area rettamente residenziale nella quale era previsto nella scheda del PRG la realizzazione di abitazioni, l'altra è l'area cosiddetta ad uso misto come previsto dalla PRG in altre zone della nostra città come tutta la zona industriale di San Silvestro dove accanto a stabilimenti di attività artigianali produttive convivono comunque abitazioni a servizio di quelle destinazioni. In un caso si tratta di un'approvazione della variante acustica che porta dalla classe 4 alla classe 3 per adeguare diciamo le normative acustiche a un maggiore comfort come richiesto per l'attuazione di un intervento residenziale. Nel caso dell'approvazione perché l'attuazione era già stata attuata con la deliberazione del 2015 con una variante che veniva direttamente dall'attuazione del PUA, un oggetto in quel comparto, dal quale erano state stralciate delle aree che avevano preso la deliberazione dell'oggetto. Nell'altro caso invece si tratta dell'adozione della variante per quello che riguarda l'area a destinazione mista a cui seguirà poi l'approvazione. in fase di discussione tecnica in commissione sono state illustrate anche le previsioni di progetto che sono disponibili fino a questo punto perché si tratta comunque di una fase preliminare dell'approvazione dei vari comparti, in particolare in questo caso quello che regola lo schema generale delle opere pubbliche in particolare della viabilità. Ricordo che questo quadrante di città porta con sé la realizzazione di quella infrastruttura stradale che va a completare quella cosiddetta circonvallazione nord che dovrebbe girare diciamo su tutta la zona nord del Paese. In questo caso si tratta di un piccolo quadrante di questa circonvallazione che parte dalla via San Silvestro e dovrebbe collegare la via Convertite vicino allo stabilimento di campione. Sono anche previste una serie di progettazioni non di dettaglio ma che inquadrano quindi anche le opere di strade che vengono a collegare questa nuova bretella con la via Piero della Francesca sgravando man mano di traffico quello che è via Piero della Francesca che assume quindi i connotati di una strada. Man mano che questo comparto sarà in attuazione sempre più diciamo di viabilità residenziale o comunque urbana rispetto alla funzione di collegamento e di attraversamento che verrà svolta dalla nuova infrastruttura che verrà progettata. Non avrei molto altro da aggiungere, sono comunque qui a disposizione oltre agli approfondimenti di attività di attività e di attività. Grazie Assessore, apro la discussione. Grazie Assessore, apro la discussione. Prego Capogruppo. Grazie Presidente. Colgo l'occasione per chiedere una cosa all'Assessore in quanto facendo già parte del Consiglio Comunale nel 2015 ho visto tutto l'iter relativo ai due comparti iniziali, cioè il progetto iniziale che addirittura il primo al 2021 ho visto che è stato modificato proprio per le situazioni che si sono create, che sono state innumerevoli. L'ho fatto notare anche durante la commissione, ho visto che nel disegno tutti i vari lotti, man mano che verranno fatti dei lotti verranno costruite anche delle rotonde in corrispezione proprio dei rotti in modo da snellire il traffico. Proprio in questa considerazione le chiedevo, visto che la via Colomarina verrà collegata alla via Convertite e da quello colletto via Convertite sarà in un secondo momento, penso, si cercherà di mettere in sicurezza via Convertite. Le chiedo se è già stato in preventivo o quantomeno è già stato pensato di iniziare a ragionare su una rotonda anche sulla fine di via Convertite in prossimità della provinciale Lughese in modo da rendere ancora più snello tutto quello che è il discorso della circolazione nord. Perché essendo un discorso che va a intaccare anche la provincia, vedendo tutte le varie situazioni, forse serve il caso di iniziare immediatamente ad avviare il discorso anche dalla provincia per fare in modo e in maniera che, visto le tempistiche che praticamente capitano in queste cose, magari iniziando prima, la facciamo prima. Grazie. Grazie a lei. Altri per la discussione? Chiudo quindi la discussione e lascio la parola all'assessore se vuole replicare. Adesso non ho sotto mano quello che era la programmazione dei vecchi strumenti urbanistici, ma questo pezzo di bretella andava comunque a realizzare il collegamento fino alla via Lughese, nel potenziamento di quello che erano le infrastrutture stradali che il PRG ma anche il PSC aveva immaginato. Mi sembra di ricordare che una rotonda o comunque la messa in sicurezza della parte finale nel momento in cui si realizzasse tutto il collegamento della circonvallazione nord fosse in previsione. Segnalo anche che la continuazione di quella strada, nelle previsioni anche degli strumenti urbanistici di Unione, era la continuazione che doveva arrivare fino alla circonvallazione di Castelpolognese. In un certo senso doveva essere una parallela nelle previsioni di quello che era la previsione di traffico e di infrastrutture che era prevista. Io credo che oggi una riflessione anche nel nuovo strumento urbanistico la stiamo facendo, fa parte di quella parte di quadro conoscitivo nella quale si va a guardare tutta la parte di progettazione e di programmazione che era prevista negli strumenti precedenti che deve essere attualizzata anche sulla base di come è evoluto il territorio nel corso dei decenni, quasi, dal 1996 ad oggi. Quindi in questo momento penso che la previsione di una messa in sicurezza della continuazione della strada sulla Lugese sia ancora prevedibile, non so se con la soluzione di una rotonda o di pancarti con l'incorso di tutti i tempi. Grazie. Apro la fase della dichiarazione di voto. Vicepresidente, prego. Grazie, Presidente. Visto che parlava di rotonde l'assessore, si era parlato in commissione che via Piero della Francesca saranno fatte due rotonde al centro. Per noi, oltre il progetto, quindi la dichiarazione di voto è favorevole. Guarderemo con interesse queste due rotonde perché, come dicevo nell'intervento per la zona di tema sinergie via Malpighi, quegli ingressi di queste due vie qui sono abbastanza pericolosi e le due rotonde, tornando alla sicurezza, rallentano anche le corse dell'automodinista medio, che è una strada che porta ad alta velocità. Grazie. Quindi voto favorevole di progetto civico faentino. Grazie a lei. Altri per la dichiarazione di voto? Chiudiamo anche la fase di dichiarazione di voto. Portiamo da prima in votazione il punto numero 4. Approvazione variante acustica in correlazione alla previsione del PUA relativa al subcomparto B3, scheda 174, area colombarina del PRG Comune di Faenza. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è approvata e immediatamente eseguibile con 23 voti favorevoli, nessun voto contrario e un voto di astensione. I votanti presenti al momento della votazione erano 24. Andiamo in votazione col punto 5. Adozione variante acustica in correlazione alla previsione del PUA relativa al subcomparto B2, scheda 174, area colombarina del PRG Comune di Faenza. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questa delibera è approvata e immediatamente eseguibile con 23 voti favorevoli, nessun voto contrario, un voto di astensione, i votanti presenti alla votazione erano 24. Abbiamo terminato la parte deliberativa, abbiamo 4 indirizzi di tipo politico, 2 mozioni e 2 ordini del giorno. La prima mozione dal titolo Ausl Romagna, presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia, lascio la parola al capogruppo Bertotti. Grazie, andrò a dare una veloce lettura dell'ordine del giorno e poi due considerazioni. Mozione. Il Consiglio Comunale di Faenza ha permesso che il 19 novembre 2022 sia tenuta nella città di Faenza una seduta straordinaria del Consiglio Comunale sul tema della sanità a Faenza, situazioni e prospettive. Al Consiglio ha partecipato tra gli altri il Direttore Generale dell'ASB della Romagna, Dottor Tiziano Carradori. Nel corso dei suoi lunghi interventi, il Direttore Generale ha toccato diversi temi, mettendo al centro la carenza di personale, in particolare sul pronto soccorso, il ritardo nelle liste d'attesa che è stato definito fisiologico post-Covid, la necessità di proseguire nel processo di riorganizzazione sinergica tra i presidi ospedalieri presenti all'interno dell'ASB, magnificandone l'impatto in termini quali quantitativi. Ha fortemente lamentato la disattenzione del Governo centrale circa una cronica carenza di stanziamenti anche ordinari. Ha ammesso che uno dei problemi di fondo nella mancanza di personale è legata anche alla maggiore attrattività di strutture private rispetto alle potenzialità di spesa. A distanza di poche settimane, inizio gennaio 2023, il Direttore Generale ha annunciato la necessità di adottare una misura urgente ed indifferibile, finalizzata a mantenere la migliore performance operativa del sistema di emergenza territoriale e dei pronti soccorso dell'Azienda della Romagna. Tale misura urgente è stata individuata dalla rimodulazione, riduzione e ridistribuzione dei mezzi di soccorso avanzata Leadership Medica MSA Med. Sui distretti di Furlì, Rimini, Riccione, Lugo e chiaramente Faenza. Sordo alle proteste del territorio ha dichiarato che non vi è nessuna possibilità di tornare indietro. Qui invece in realtà in questi giorni si sta leggendo che qualcosa pare che stia riorganizzando. Lo stipendio medio di un medico di pronto soccorso si gira tra i 52 e i 54 mila euro annui lordi, un medico ospedaliero 53 mila e 300 euro annui lordi, un medico specializzando 24 mila euro lordi annui, un medico entry level costa pubblico meno di 40 mila euro lordi annui. Lo stipendio medio di un infermiera in Italia che opera nel sistema sanitario nazionale e regolamentato dal contratto collettivo nazionale attualmente vigente e da ultimo rilevamento la retribuzione si attesta intorno ai 1922 lordi al mese. Con derivere del direttore generale dell'Asle della Romagna dal 1 febbraio per i prossimi 5 anni è stato assunto a capo dell'unità operativa complessa qualità e governo clinico il dottor Nicola Magrini, ex direttore dell'AIFA, per la cifra annua di 146 mila 031 euro, 730 mila euro in 5 anni, simplificando. La somma corrisponde a tre medici di pronto soccorso, così da incrementare di almeno un'unità i medici di servizio sul 50% degli ospedali dell'Asle della Romagna o nell'alternativa a tre medici ospedali regenerici o sei medici specializzanti o quattro medici di primo impiego o sei infermieri. Con la cifra di 730 mila euro in 5 anni si sarebbe potuta mantenere l'unità operativa di medicina nucleare presso l'ospedale di Faenza. Quindi impegna essendo quella giunta a convocare il direttore generale dell'Asle in seduta plenaria di consiglio comunale per chiedere urgenti spiegazioni sul fatto di aver preferito l'assunzione dell'ennesimo dirigente di alto livello quando a parità sostanziale di spesa si sarebbe potuti intervenire in personale ospedaliero di base ed in particolare in ambito di pronto soccorso o in alternativa invitarla a produrre una dettagliata analisi economico-finanziaria di servizio che dia prova della validità in termini di servizio per una scelta simile. Attivare ogni canale ufficiale per mostrare di senso politico verso una scelta che appare in contrasto con la profonda opera di riorganizzazione, riduzione dei servizi, ricorso a condizioni private, ritardo nelle liste di attesa, difficoltà di funzionamento delle strutture. Stigmatizzare il continuo investimento in ambiti diversi di organizzazioni sempre più autoreferenziali, e mastodontiche, la cui complessità organizzativa ed operativa porta diseconomie economico-finanziarie e un profondo disservizio sul territorio. Destinare al pronto soccorso dell'Aslo e Romagna, quello di Faenza in particolare, una cifra aggiuntiva almeno pari al doppio dello stipendio loro del nuovo dirigente di unità operativa complessa, qualità e governo clinico, recuperando le risorse nel riequilibrio degli monumenti di vertice, visto il minor carico di lavoro che graverà su di loro in conseguenza del nuovo ingresso. Faccio una premessa, è chiaro che quest'ordine del giorno ha una natura evidentemente politica e anche provocatoria, soprattutto per quello che riguarda le premesse. Io non ho, non è una proposta organica e non voleva essere tale, ma è però un intervento politico dopo quel Consiglio Comunale a cui abbiamo tutti partecipato e dopo che il dottor Caradori è venuto a raccontarci tutta una serie di cose, glissando sui problemi e spostando in avanti la palla sulle soluzioni. Nel corso di quel Consiglio Comunale il dottor Caradori aveva parlato, perché l'aveva detto tra le righe, della necessità, poi forse era sfuggito perché ho visto che la stampa non ne ha dato notizie nei giorni immediatamente successivi, della necessità comunque di eliminare alcuni automedici, perché già allora lo disse, sono andato a riascoltarlo per andare a migliorare il servizio di pronto soccorso. È stato fatto il primo pezzo, il secondo invece non abbiamo notizia che sia accaduto. Asle della Romagna ha un costo di struttura, soprattutto ai vertici, nell'alta direzione che è superiore alla media delle altre Asle, non dico di dimensioni simili perché comunque ha una struttura diversa, è prontissima ad intervenire su quell'ambito specifico, mentre non va a risolvere i problemi, anzi scarica a valle quelle che sono delle diseconomie, delle inefficienze. Però quando il politico Caradori, perché da politico lui si è comportato quel giorno venendo a raccontarci in Consiglio Comunale tutta una serie di cose, anziché dare delle soluzioni, scarica su altri quelle che sono responsabilità che dovrebbero essere principalmente le sue. Non è solo un problema di risorse scarse, che sono scarse, si poteva fare di più, si poteva fare di più, la sanità ha bisogno di maggiori investimenti, la sanità ha bisogno di maggiori investimenti. Lo dico questo perché a scanso di equivoci, però se chi accetta quel ruolo e accetta quel ruolo con una retribuzione ben adeguata a ricoprirlo, molto adeguata a ricoprirlo, è ben consapevole di quelle che sono le carenze strutturali, le carenze organizzative, lui deve arrivare lì non per fare il politico o per fare sponda con l'assessorato regionale, ma per andare a proporre delle soluzioni che non devono essere prese solamente nella fascia alta dell'alta dirigenza, ma devono andare sul territorio, mi si è consentito dire. Quindi quando ho letto sulla stampa, quando ho letto quello che stava succedendo, ho detto che non dare neanche un segnale mi sembrava veramente troppo, soprattutto dopo, ripeto, la passarella che è stata fatta in quel Consiglio Comunale straordinario e dopo che tutti i problemi che attanagliano la sanità della Romagna e in particolare anche la sanità di faenza sono ancora tutti lì sul tavolo senza una soluzione. Quindi il mio invito è di votare favorevolmente chiaramente a quest'ordine del giorno per dare un segnale politico, anche un segnale di protesta, una protesta se vogliamo anche fine a se stessa, però credo che quando si trattano argomenti di questo genere sia necessario anche protestare in maniera così inutile a volte. So già come andrà a finire, però mi sono eticamente, ecco io credo per il ruolo che rivesto, che sia stato giusto portare all'attenzione di questo Consiglio in ordine del giorno così strutturato, perché non è tutto bello, non è tutto rose e fiori come invece il Dottor Caradori ha voluto rappresentare in quel Consiglio Comunale scaricando solo oltre lui quelle che sono le responsabilità di una situazione di cui lui è se non altro coattore. Grazie Capogruppo, apriamo la discussione su questa mozione. Capogruppo Neri, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ho apprezzato il suo intervento Capogruppo Pertozzi quando ha parlato di documento provocatorio, l'ho apprezzato perché c'è confusione in quel documento fondamentalmente. Lei in quel documento banalizza, mi lascia in termine un pochettino, una struttura complessa di politiche aziendali, di scelte aziendali, riducendo il tutto ad un mero calcolo matematico. Non facciamo questa scelta, ne facciamo un'altra. Assumiamo medici che sa bene che una delle informazioni che ci ha dato il Dottor Carradori, che è giusto e lecito criticare dal suo punto di vista, ci ha raccontato esattamente la problematica importante di risorse umane, di medici fondamentalmente e soprattutto. Cogliamo l'occasione per informare i cittadini magari su questo servizio di qualità e governo clinico, questa unità complessa che dirigerà il Dottor Magrini. In questa fase post-pandemica è fondamentale sia dal punto di vista strategico che normativo. Ricordiamo i suoi compiti, accesso alle cure sicure e di qualità. Uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza, acronimo LEA, e cioè le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire ai cittadini. Individuazione dei percorsi diagnostico-terapeutiche assistenziali, PDTA, che sono uno strumento di gestione clinica per la definizione del miglior percorso finalizzato a rispondere a specifici bisogni di salute adatti al contesto locale. Centralità del paziente, rapporto ospedale-territorio, continuità assistenziale nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, formazione e aggiornamento professionisti sanitari. Queste le sue funzioni. Direi che laddove c'è un dirigente di alta qualità, di grande formazione, potremmo essere soddisfatti che ci sia qualcuno che possa dirigere queste funzioni. Detto questo, non farei un esercizio per talmente di scelte a fronte di una spesa, ma scendendo nel dettaglio, tentare di stimolare strategie che diano sollievo ad alcuni servizi, in primis il pronto soccorso, che aumentino la risposta sanitaria sul territorio, in termini di qualità professionale. Abbiamo bisogno di professionisti preparati e formati in modo adeguato. Questa è la necessità dei nostri cittadini. Per questi motivi voteremo contrario alla mozione presentata da lei, provocatoria, e io l'accetto. annuncio come gruppi di maggioranza che presentiamo una mozione incidentale su questo tema dal titolo Aus Romagna Prospettive. Prego, quindi la segreteria di presentarla. Chiedo al capogruppo Neri, vuole presentarla ora a darne lettura dell'incidentale? Prego, se ha piacere di dar lettura. Sì, grazie. Ne do lettura. Aus Romagna Prospettive. Premesso che in data 19 novembre 2022 sia tenuta a Faenza al Palazzo del Podestà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale sul tema la sanità a Faenza, situazione e prospettive. Con la presenza del direttore generale Aus Romagna Dottor Tiziano Carradori, del direttore del presidio ospedaliero di Faenza Dottor Davide Tellarini e il direttore del distretto territoriale di Faenza Dottoressa Donatina Cilla. In questa occasione sono state comunicate a noi consiglieri e alla cittadinanza diverse soluzioni per affrontare le problematiche sanitarie in questo periodo post-pandemico. Gli investimenti sugli ospedali distrettuali come il nostro sono testimoniati da alcuni interventi strutturali, per esempio la realizzazione del nuovo pronto soccorso, ma principalmente negli ultimi anni dall'istituzione di nuovi direttori di struttura complessa, reanimazione, cardiologia, pronto soccorso e medicina d'urgenza, radiologia, oculistica, ortopedia e chirurgia primari che potranno sviluppare i progetti ed avere una visione a lungo termine. Purtroppo sono state evidenziate anche carenze organiche importanti, in particolare nel personale medico, nei servizi di emergenza pronto soccorso ed anestesia e reanimazione. Da inizio dicembre il direttore generale ha adottato per carenza organica oggettiva di risorse umane nei pronto soccorso una rimodulazione con riduzione della presenza sul territorio dei mezzi di soccorso avanzato, automediche, partendo da quello Ravennate inizio dicembre e poi di seguito a Forlì e a Rimini. Inoltre l'equipaggio delle automediche nell'ambito territoriale di Ravenna è composto da autista, operatore tecnico specializzato e medico di emergenza territoriale, a differenza degli altri ambiti dell'Aus Romagna in cui l'equipaggio è composto da infermiere e medico. Nella legge di bilancio 2023, legge 197 del 2022, il governo ha alimentato il Fondo Sanitario Nazionale con ulteriori 2 miliardi, dei quali però 1,4 miliardi drenati dalla necessità di copertura parziale degli aumenti dei costi dell'energia negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie. Lo stanziamento risulta quindi non sufficiente per implementare misure necessarie, quali ad esempio l'innalzamento degli stipendi di medici e personale sanitario e lo snellimento delle liste d'attesa nel periodo post-pandemico. In conseguenza di ciò, la Regione Miglioramagna ha stanziato risorse proprie aggiuntive per il comparto della sanità nel bilancio di previsione regionale per mantenere invariati i livelli di assistenza e prestazione, al contempo senza innalzare la pressione fiscale sui cittadini. Premesso che è stata convocata per il giorno 13 marzo, una seduta della Commissione 5 Sanità con l'obiettivo di approfondire argomenti inerenti al nostro territorio e in particolare la situazione relativa al dislocamento a Cotignola dell'automedica a servizio di Romagna-Faintina, Bassa Romagna, Modigliana e Tredossio. L'aggiornamento che ha dato prima il Capogruppo Bertossi è che di giorno è collocata a Castel Bolognese, ora la stessa che di notte invece a Cotignola, confermo. Si ritiene che in tale occasione si debbano essere affrontati anche argomenti inerenti all'organizzazione generale, come meglio indicato nei punti seguenti. Considerato che, per quanto riguarda l'ospedale di Fadenza, concordiamo sulla visione aziendale di investire su ambiti dove il bisogno è più esteso, migliorando e aumentando gli spazi per i repati di geriatria e medicina dal punto di vista strutturale, professionale e alberghiero. Per quanto riguarda i posti letto, il piano di riordino regionale del 2019 prevede per l'ospedale di Fadenza un totale di 221 posti letto di degenza ordinaria più 11 posti letto in deospita. Tali previsioni non sono al momento soddisfatte ed è necessario attuare quanto prima un adeguamento a tali standard. Il pronto soccorso è attualmente il luogo nodale nel quale, attraverso valutazioni e trattamenti sanitari correlati ad una diagnostica, si riesce a dare risposte esaustive ai bisogni dei cittadini. Il ruolo di questa struttura di riferimento per la salute dei cittadini deve essere quanto prima corroborato dalla realizzazione delle case della salute, affinché non si determine una eccessiva concentrazione delle richieste e un rallentamento dell'erogazione di servizi essenziali. Nei pronto soccorso degli altri presidi provinciali, Lugo e Ravenna, sono attivi fast track, accessi rapidi, ovvero corsie preferenziali, ortopedici o torino-daringoiatrici e oculistici, mentre a Paenza mancano ancora, altresì sono presenti quello pediatrico, ostetrico, urologico e dermatologico. Detto questo, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a richiedere con forza al Direttore Generale e al Direttore del Presidio Ospedaliero di Paenza di attivarsi e adoperarsi affinché venga al più presto ripristinato il numero dei posti letto concordati dal piano di riordino regionale prima del periodo pandemico, 221 posti in degenza ordinaria, mentre attualmente il numero è fermo a 207 di degenza ordinaria. A richiedere inoltre che venga comunicato un cronoprogramma chiaro e attendibile relativo a tale ripristino. A stimolare il Direttore Generale e il Direttore del Presidio Ospedaliero di Faenza affinché si attivino il prima possibile percorsi di fast track ortopedico in via prioritaria, oltre a quello oculistico e otorino laringoiare, per dare sollievo al pronto soccorso generale. A pretendere inoltre che l'equipaggio delle automediche, ancorché ridotte e immodulate, sia composto da infermiere medico e autista o in alternativa da infermiere e medico come risulta da sempre in tutti gli altri ambiti dell'Aus Romagna, aumentando così i coefficienti in termini di qualità e professionalità sul territorio. Il Consiglio Comunale chiede inoltre che questo documento e i punti in esso contenuti siano inseriti nell'ordine del giorno in discussione della prossima Commissione Consigliare. Grazie a lei Capogruppo, continuiamo quindi la discussione, per chiarezza maggiore il documento presentato e letto dal Capogruppo Bertotti lo definiremo allegato A, quello appena letto lo definiamo allegato B, questo anche per semplificare poi la discussione o nel caso ci dovessero essere dei riferimenti. Se qualcuno deve intervenire, prego Consigliere Biolchini. Concordo con il Capogruppo Neri che il documento del Capogruppo Bertotti sia provocatorio, assolutamente sì, sappiamo tutti che chi è capace, chi è un altro dirigente di avere una retribuzione che sia equiparabile alle sue capacità, questo vale nelle aziende private e pubbliche, quindi trovo che sia giudicheremo su quello che farà. Per quanto riguarda invece l'allegato B concordo pienissimamente con il Capogruppo Neri, è un documento esaustivo che caratterizza bene le richieste che devono essere fatte, su questo non ho molto raggiunto. Vorrei allargare però un discorso in via più generale. Visto che dobbiamo chiedere al Consiglio Comunale, al Sindaco di portare avanti questo documento, devo dire che da quando si è insediato il Sindaco Isola è stato un pungolo continuo verso l'amministrazione dell'Asne. Tant'è vero che abbiamo avuto 5 nuovi primari, magari potevano venire lo stesso direte, ma in realtà so perché ci siamo sentiti in quel periodo molto, c'è stata una continua attività di pressimi, possiamo dire, ed ha portato dei buonissimi risultati. Quindi credo che il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco abbiano fatto in questo campo veramente quello che dovevano fare. Spostandosi sul territorio, devo dire che c'era un problema emergente a Reda e anche lì, insistendo moltissimo, cercando delle scappatoie legali, anche addirittura, si è riuscita a far insediare un medico sul territorio a Reda. Quindi credo che la delega alla Sanità, il Sindaco, l'ha disvolta in modo egregio. Parlando invece in termini più sanitari stretti, diciamo così, l'ospedale di difenza è un buon ospedale, è un buon ospedale divisionale che fa esattamente quello che deve fare. Ci sono problematiche, certo, la carenza di medici e di infermieri esiste, esiste per mancante di finanziamenti, ma vedo che per il futuro sarà ancora più grama, secondo me, visto certe decisioni prese a Roma. Ma perché nascono questi problemi? Nascono perché c'è una carenza di personale, ma io vorrei spostare i termini e vorrei che tutti quanti poi siamo coinvolti nella nostra funzione di amministratori pubblici. Se noi andiamo a vedere il numero di TAC e di risonanza magnetiche in Italia rispetto all'Europa, abbiamo anche di più della media, precisamente. Di PET siamo a livelli quasi più alti. Perché allora per una TAC o una risonanza magnetica nel pubblico i tempi sono biblici. C'è il privato convenzionato che garantisce un percorso per il quale può fare il TAC, magari spostandosi fuori faenza. Questo succede perché c'è la convinzione che tutto possa essere fatto e tutto possa essere dovuto. C'è una parola che potrebbe risolvere in qualche modo risolto questi problemi di erogazione e di prestazioni, che è un problema di congruità delle richieste e di appropriatezza delle risposte. L'appropriatezza va governata. L'appropriatezza adesso è soltanto nelle mani dei medici, che si trovano di fronte a delle richieste incredibili. Perché ormai c'è una condizione per la quale è passato il messaggio, non so perché, che tutti possono chiedere tutto. Tutti possono chiedere che all'ospedale di defenza ci sia 4 TAC, 10 risonanze, un reparto di cardiologia, perché una volta l'ospedale era così. Tutti possono andare in pronto soccorso per un brufolo o una puntura di insetto e pretendere in un'ora di avere una risposta. Tutti possono andare dal medico curante e chiedere una risonanza perché l'amico l'ha fatta. Questo è. Alcuni miei colleghi dicono che il problema è perché si è passati da pazienti a clienti. non sono tanto d'accordo, però il cliente ha sempre ragione. E questo non deve essere. Io vorrei portare sul fatto che sono assistiti, che devono essere assistiti nella salute, prima innanzitutto, con prevenzione, screening e nella malattia. Però tutti quanti noi dobbiamo chiarire, come amministratori, che c'è un percorso di appropriatezza che va seguito. Non possiamo pretendere tutto, tutto, tutto gratis. Perché non può essere. Allora, aiutiamo chi svolge tecnicamente la professione di medico o di infermiere nel dire al cittadino che ci sono percorsi che vanno seguiti, che magari quello che a noi sembra che sia indispensabile e io voglio il massimo, non è il percorso giusto. Ma dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Non dare la stura, come succede, io vedo che capita, a ogni richiesta assurda perché arriva da qualcuno che poi ha vissuto anche dei problemi gravi, evidentemente, ma non può essere così. Per cui la richiesta che faccio a tutti noi, la raccomandazione che faccio a tutti noi, è di indirizzare i cittadini e gli assistiti verso una consapevolezza che le risorse sono finite, devono essere utilizzate nel miglior modo possibile e soltanto chi ha capacità e conoscenza può indirizzare queste scelte. E questo è l'unico modo per salvare il servizio sanitario nazionale, una legge fra le più importanti della Repubblica. Nel 1978 l'onorevole Tina Anselmi la firmò. E guardate che paesi che hanno una legge come la nostra si contano sulle dita di una mano. Teniamocela stretta, ma per tenerecela stretta dobbiamo aumentare le risorse, ma governare meglio queste richieste. Altrimenti, arrivare al privato, già vedo segni. Ci sono assicurazioni private che già unono in salute. Si cominciano a ricomporre dei disegni di mutue private. Ricordo che prima dell'SSN c'erano persone che pagavano il medico, alcuni pagavano i farmaci, alcuni di ricovero ospedaliero, famiglie che sono rovinate per pagare il ricovero ospedaliero. Quindi teniamocelo stretto, però ricordiamoci quando qualcuno ci viene a dire ho fatto ma è successo questo, ricondurlo alla ragione e dire non può essere fatto tutto in ogni momento. Vi dico che in Inghilterra prima di vedere un medico di base ci si mette 15 giorni perché sono vari filtri. Qui invece perché per due giorni non si ha un appuntamento, è una tragedia. Ma questo vale per tutto. Poi è chiaro che lo metto insieme al fatto che la scuola fa schifo, il comune fa schifo, la regione fa schifo, le banche sono ladri. C'è un chiacchiericcio, un mormorio continuo contro tutto e contro tutto. Se vogliamo che qualcosa si salvi, cominciamo che noi operativamente a ricondurre alla ragione. Questo perché ci si possa salvare. Grazie consigliere, vicepresidente, prego. Grazie presidente. Questa è la politica che ci piace. Una tematica territoriale legata all'ospedale, quindi io ringrazio il capogruppo Bertossi che ha stimolato la maggioranza, ringrazio il capogruppo Neri e la presidente di Commissione Quinta che ha convocato quindi per aggiornarci con Corradori una commissione il 13 marzo. Quindi potete intuire che voteremo favorevolmente ad entrambe. Però faccio una provocazione. Io sento sempre parlare di numeri, ma mai di risorse umane. E mi ricordo all'ultimo consiglio comunale straordinario che abbiamo fatto, c'erano molti del personale e mi risulta che qualcun altro lavori in ospedale. E c'è un malcontento generale. Due anni fa c'erano degli eroi che applaudivamo per i turni massacranti, vedevamo delle foto incredibili. Allora io dico, proviamo, visto che siamo diventati un comune gentile, di aggiungere una riga, la dico male, magari non si può neanche fare, però chiediamo al direttore generale di riorganizzare i turni di lavoro e di cercare che questa politica al di là di Roma, quello che si può fare qui per aumentare anche una risorsa umana. Io non so se dobbiamo andare in regione o solo a Roma, però chiediamo alla giunta che si attivi di fare un dialogo più aperto con il direttore generale sui turni del personale, la riorganizzazione del lavoro, quali sono le mancanze che Carradori ha lamentato, ma mi risulta, come gli ho detto al consiglio straordinario, che lui fino a poco tempo prima era, mi pare, il direttore generale dell'assessore ai servizi sociali regionali. Quindi queste cose le sa. Quindi non è tanto chi è in maggioranza, è per questo che mi piace questa discussione coesa, per un bene comune. Io credo che il personale vada messo al centro sempre e ce lo dimentichiamo. Chiudo dicendo, due anni fa avevamo degli eroi che applaudivamo, ce li siamo dimenticati. Grazie. Grazie a lei, Vicepresidente. Altri per gli interventi? Consigliere Liberani? Grazie, Grazie Presidente. Io volevo partire da due campagne elettorali fatte prima dalla regione Emilia-Romagna, mi ricordo benissimo, dove ci raccontavano che gli ospedali, la sanità regionale emiliana romagnola era la migliore in assoluto. Ricordo la campagna elettorale per le comunali, stessa cosa. Oggi ci troviamo qui a discutere con due risoluzioni dove chiediamo un impegno importante al sindaco, dove possa chiedere a passadori un impegno concreto sul pronto soccorso, sui vari reparti del nostro ospedale. Io ricordo benissimo l'incontro che abbiamo fatto a Palazzo Podestà, ricordo la campagna, perché Caradori fa campagna politica, non viene a raccontarci com'è veramente negli ospedali, perché adesso con tutto quello che vogliamo dire, ma Magrini, 115 mila Euro annui, potremmo prendere 4 o 5 infermieri, perché non si prendono? Perché Caradori ha dato la colpa al governo nazionale, ha detto che i soldi non ci sono, però i soldi per trovare una persona a 115 mila Euro annui, quelli ci sono, perché? Perché, ripeto, l'unica cosa che ci ha saputo dire è che non ci sono risorse per prendere del personale, per avere del personale in più nei nostri ospedali. Biorchini, sicuramente voi siete in maggioranza, fate bene, io a Reda, tutto l'interpellanza per il medico di base, l'aveva fatta la Lega, aveva chiesto la Lega, i cittadini di Reda hanno chiesto con forza, sono stati bravi anche loro, non prendetevi i meriti solo voi, i cittadini si sono mossi, i cittadini hanno fatto una raccolta firme, quindi adesso va bene, bravo il sindaco, bravissimi tutti, bravi solo voi, adesso anche no. C'è stato un impegno di tutti, prima di tutto dei cittadini di Reda, io ho visto come sono mossi, sono stati veramente capaci di fare squadra e trovare il modo di trovare un medico di base. io, Neri, questa difesa a squadra tratta di Caradori, a me mi sembra proprio, io ricordo il 5 Stelle di 3, 2 anni fa, quello che diceva contro il Partito Democratico, contro Caradori o chi c'era prima di lui, poi mi meraviglio, lei Neri che lavora nel pronto soccorso, lavora dentro l'ospedale e sembra che tutto vada benissimo, io rimango allucinato, va bene prendere la parte politica, prendere la parte, adesso si è in maggioranza e quindi tutto va bene, tutto va benissimo e questo mi sembra alquanto, alquanto incredibile. Poi sicuramente voi ci tenete tantissimo all'ospedale di Paenza, ma vi dico una cosa, io e Padovani abbiamo pagato la questione che non siamo venuti in Consiglio Comunale, l'abbiamo pagato, ma siamo stati rivotati con i voti dei cittadini. Ricordo che a Palazzo Podestà c'è stato richiesto di rimanere dentro all'aula perché se no non c'era il numero legale, mi interessa molto all'ospedale, io non l'ho mai detto, però queste cose qui mi fanno un po' ribollire il sangue, perché se voi tenete tanto all'ospedale state lì a Palazzo Podestà, come io e Padovani non siamo venuti in Consiglio Comunale e abbiamo pagato, ci avete fatto tra virgolette fuori, la Consiglio Comunale, va bene, però esigo da voi consiglieri che fate, non fate mancare il numero legale, dobbiamo rimanere io e la Roberta, ricordo benissimo questo passaggio qui, quindi non venite a separare la morale, ok? Noi siamo qui, presentiamo i nostri documenti, voteremo in modo favorevole alla risoluzione del Consigliere Bertozzi, adesso valuteremo cosa fare sulla risoluzione. Grazie consiglieri, altri negli interventi? Direi che possiamo chiudere la discussione, lascio se vogliono la parola ai proponenti, prima al Capogruppo Bertozzi, poi eventualmente anche al Capogruppo Neri, prego. Sì grazie, allora intanto il risultato, credo che questo ordine del giorno l'abbia portato, di provocare una mozione incidentale che non è una mozione incidentale, perché se il contenuto della mozione fosse stato diverso avrei recepito a termini di regolamento questo aspetto, perché questa è una mozione che dice altre cose, che affronta un problema se vogliamo simile ma da un altro punto di vista, io voterò favorevolmente alla mozione presentata dalla maggioranza, perché mi pare che sia sottoscritta dalla maggioranza a tutti, perché a parte premesse molto così mellifue a tratti, ma ci sta, perché altrimenti non saremmo una difesa non tanto di Caradori quanto di tutta la dirigenza della Sle Romagna, le richieste, gli impegni che vengono richiesti alla Giunta sono totalmente conclusibili ed evidenziano che un problema c'è, forse per la prima volta evidenziano che un problema c'è. Io l'ho fatto in maniera provocatoria, ma perché fa parte del ruolo, io siedo su banchi opposti ai vostri, opposti a questa maggioranza, l'invito che faccio è di non aspettare provocazioni nostre che credo siano necessarie e a volte siano umili, ma muoversi in autonomia, perché questo ordine del giorno credo che avrebbe trovato una condivisione molto ampia, perché al di là dei termini, che quando si cerca un compromesso è necessario, anche da parte nostra abbandonare le barricate e da parte vostra fare, però evidentemente un problema c'è, resta però, io voterò favorevolmente anche il mio ordine del giorno, non farò un colpo di teatro tipo il capogruppo Zoli, ma resta però un fatto, ho ascoltato con attenzione anche quello che diceva il consigliere Biolchini, io vengo da un mondo che chiaramente non è quello della sanità, che però ha attraversato una profonda ristrutturazione negli ultimi anni, la sta attraversando tutt'oggi, quindi a tratti simile nell'organizzazione, perché c'è un problema, c'è un problema organizzativo, c'è un problema dove anche le banche davano tutto a tutti fino a un po' di tempo fa, soprattutto ai dipendenti e soprattutto anche ai clienti in termini di servizi, poi il mondo delle banche è cambiato, com'è cambiato il mondo della sanità, com'è cambiato il mondo del lavoro in generale. Se però le banche hanno un merito in questi anni, che forse dal cliente, perché in quel caso è veramente un cliente, non è un paziente, anche se è molto paziente a volte il nostro cliente, è partito non tanto dalla base, la base è stata massacrata se vogliamo, ma anche i vertici sono stati tagliati, i costi in struttura, al di là degli amministratori delegati o comunque le fasce di dirigenza, lì sono andati a intervenire in maniera anche violenta a tratti, questo è successo in Italia, questo lo dico a ragionamento, poi ci sono stati problemi di altra natura, ma non c'entra niente, quello che invece sta facendo la sanità, quello che sta facendo la pubblica amministrazione, ma la sanità in particolare, è di intervenire solamente sul basso, io non credo che il problema dei dipendenti pubblici, dei dipendenti della sanità sia solo un problema di retribuzione, ma è anche un problema di organizzazione del lavoro, il tema degli amestesisti che è venuto fuori a margine di quel Consiglio Comunale, ma anche in altre commissioni è evidente, c'è un problema di turni massacranti, c'è un problema di rendere più conveniente le trasferte degli amestesisti da ospedali centrali verso la periferia, io credo che la dirigenza anche della singola AS possa fare molto per cercare, non tutto, perché ci sono dei dati oggettivi, la scarsità di risorse è un dato oggettivo, però possa fare molto per organizzare partendo da se stessa, invece no, è partita dalla base e da qui il malcontento dei medici di base, il malcontento degli operatori di pronto soccorso, il malcontento degli infermieri o di tutti, io non sono un esperto di sanità ASPRO, ascolto e mi piace leggere perché comunque tocchiamo uno dei gangli fondamentali del nostro vivere comune, del nostro vivere mentalmente, probabilmente c'è un problema culturale, ma da dove nasce il dottor Biocchini, poi lei sa meglio di me, la chiamo dottore in questa fase, nasce anche da un'abitudine, eravamo abituati ad avere tutto, siamo stati abituati ad avere tutto, quindi abbandonare le abitudini diventa complicato, però non ci possiamo nascondere che c'è un tipo di utenza che stiamo subendo, che affolla ai pronti soccorsi, perché non ha alternativo, non le vuole avere, mi è capitato, no, malgrado in questi giorni di frequentare il pronto soccorso per familiari e la si vede, la si tocca con mano quel tipo di utenza che si rivolge al pronto soccorso per non rivolgersi ad altro, andrebbe educata anche in quel tipo di utenza e non voglio fare una questione classista o di altri, ma anche loro andrebbero educati, come andrebbero educati tutti gli altri che invece legittimamente avanzano delle richieste in maniera a volte anche pretestuosa, però quando si tratta della salute, si tratta della salute, quindi io posso anche capire che ci siano delle preoccupazioni, degli eccessi, quello che è successo nei due anni con il Covid, la gran cassa mediatica che comunque ha aumentato le paure dei pazienti o le paure dei cittadini, io credo che un po' di responsabilità ci sia anche in questa direzione, qui è un po' chiaro che stiamo sconfinando su questo. Io rinnovo comunque l'invito a votare favorevolmente anche al mio ordine del giorno, perché questo devo fare, voterò favorevolmente alla mozione incidentale, andando a grissare su quelle che sono le cose che non mi convincono più in fondo perché ne condivido le premesse e perché se questo può servire di stimolo a dire attenzione a Sve, c'è un problema, è inutile che ce lo nascondi, perché invece secondo me Caradori dal punto di vista politico ha nascosto una parte dei problemi spostando su altri per responsabilità e questo lo dirò anche a lui in commissione e quindi ben venga che si parli di questo la prossima volta, però non aspettate se c'è un problema da evidenziare che siamo noi forse di minoranza, a volte ce ne accorgiamo, a volte no. Grazie. Grazie a lei Capogruppo, Capogruppo Neri se lei vuole replicare, anche lei grazie Presidente. Devo ripartire con apprezzo, col capogruppo Bertossi è la seconda volta che mi capita, l'onestà intellettuale, incredibile. Devo dire che apprezzo perché seppur lontani politicamente, molto lontani, quantomeno ha rilevato il fatto che abbiamo individuato dei problemi, a differenza del consigliere Livrani che evidentemente non ha letto il documento e probabilmente era distratto su altre faccende. Quindi noi abbiamo individuato dei problemi e abbiamo fatto anche delle richieste e di questo abbiamo messo nero su bianco. È ovvio che noi siamo in braccio politico, a volte sento il Capogruppo Bertossi che ci consiglia, se avete delle idee proponetele direttamente alla Giunta, fate qualcosa, portate avanti questioni. Ovvio noi siamo il braccio politico, loro sono il braccio operativo, questo è il contesto giusto dove portare le nostre richieste e condividerle anche con voi, questo è il percorso normativo che ci siamo presi in carico di portare avanti. Per quanto riguarda la questione culturale, si avverte tutti i giorni, ovviamente la prima cosa che noi operatori facciamo è raffreddare la questione, di derimere le questioni che fanno confusione rispetto alla problematica reale che il cittadino invece ha, il problema reale del sanitario, è il nostro ruolo per carità e quindi dov'è la chiave anche da parte nostra, perché io mi metto in prima persona in discussione, è la formazione, la professionalità passa da qui, la formazione e quindi io non so come sarà questo dottor Magrini, il suo operato quale sarà, lo valuteremo, non siamo contrari a prescindere, non facciamo calcoli matematici, si spende qui, potevamo prendere qua magari, tra virgolette, se ci fossero dei medici non ci sono, si fanno bandi, si fanno concorsi, non ce ne sono, teniamoci lì stretti, quelli che ci sono magari, cerchiamo di essere complianti, facciamo gruppo, facciamo squadra come si diceva, queste sono le strategie che noi umani come risorse umane possiamo mettere in campo e vi assicuro sono vincenti, vincenti perché la città di Pensa è una bella città, si sta bene ed è lì che possiamo fare la differenza, grazie. Grazie a lei Capogruppo, apriamo la dichiarazione di voto, vi ricordo i due allegati, allegato A ed allegato B. Capogruppo Zoli, prego. Allora, confermo il nostro voto favorevole sia nella mozione del collega Bertossi che l'incidentale presentato dalla maggioranza. Ho apprezzato questa discussione, ho apprezzato anche l'intervento del Dottor Biolchini. Condivido, noi sulla carta siamo un paese virtuoso dal punto di vista sanitario e ce lo dobbiamo tenere stretto, sono d'accordo. Sono d'accordo anche sul fatto che il privato sta cercando di intervenire con assicurazioni sul mondo della sanità. Se fa questo lo fa perché c'è uno spazio, è vero che ce lo dobbiamo tenere stretto, però non dobbiamo neanche sottostimare i problemi e cercare di migliorarli. Io, un mese fa, ho richiesto una gastroscopia, non perché io ne farei volentieri a meno, non ho deciso io di farla. Me l'ha richiesta il mio medico e ha dovuto anche insistere. A Faenza ce l'ha posto a gennaio 2024, a Forlì novembre 2023 e a Ravenna dicembre 2023. Quindi non ho preso l'appuntamento, la vado a fare a pagamento, ho la fortuna di poterla fare. Non per tutti è così e quindi questo è evidentemente un problema sanitario. Grazie, altre dichiarazioni? Consigliere Padovani? Grazie Presidente, dico subito che a prescindere di quello che potrà essere dopo la mia domanda il voto di area liberale sarà favorevole a tutti e due i documenti, però mi lascia perplesso una cosa, forse sono io che non ho capito esattamente, nelle richieste, e mi scuso del ritardo di questo mio avviso, mi sono accorto ora, non mi sono stato troppo attento quindi, nelle richieste manca perlomeno il chiedere il ripristino della seconda automedica, il che siccome è stato oggetto di materia, di sollecitudine, anche sollecito da parte di alcuni amministratori locali, sindaci, ricordo Tredozio, ricordo Modigliana, ma anche il sindaco di Faenza, la perplessità nell'aver tolto quell'automedica, oggi ce ne già dimentichiamo, forse è stato una svista o forse non ho capito bene io, perché qui si dice all'ultimo punto delle richieste a pretendere inoltre che l'equipaggio dell'automedica, quindi si parla di equipaggiamenti dell'automedica e non del ripristino, a chiedere, non utilizzo il termine pretendere, quindi a chiedere, chiedere, domandare lecito, rispondere cortesia, quindi a chiedere al Gran Capo Super Megagalattico Caradori, il che tutto ciò che dice è Vangelo, è Verbo e quindi guai al mondo mettere in discussione le professionalità, le capacità, l'esperienza e il super direttore Caradori, semplicemente a chiedere umilmente un ripristino della seconda automedica, non mi sembra un documento sbagliato anche se ci fosse quest'ulteriore richiesta, leggere, leggere, chiedere con umiltà, ricordiamo sempre a chi stiamo chiedendo, al super Gran Capo Caradori, mi raccomando, non vestiamo i piedi a chi più di noi sa meglio di cosa si intende della sanità locale, non mi permetterei mai, ci mancherebbe, io coltivo terreni e quindi ci mancherebbe altro di questo, quindi chiediamo umilmente, aggiungerei proprio umilmente, chiediamo, virgola, umilmente, se è possibile, nel limite del possibile, che ripeto il Gran Direttore Caradori sa perfettamente, non certo noi, di ripristinare la seconda automedica, umilmente, a bassa voce, ecco, se è possibile, altrimenti no, ci mancherebbe, non voglio testare problemi indesiderati, ecco, questa è la mia proposta, a prescindere, voteremo favorevolmente al documento di Fratelli d'Italia e al documento incidentale proposto dalla maggioranza, che anche qui mi trovo d'accordo sulle perplessità del Capogruppo Berdozzi, sul fatto che probabilmente abbia poco di incidentale, ma questa è semplicemente una, come posso dire, una pignoleria sul regolamento, quindi non mi metto qui a disquisire della bontà del documento e va bene così, grazie. Grazie a lei. Altri interventi per la dichiarazione di voto? Chiudo anche la dichiarazione di... Capogruppo Grillini, prego. Prevemente, allora, voglio dire che, parto dal legato B, il documento che presentiamo noi come maggioranza, credo che sia un documento estremamente ben fatto e ringrazio i colleghi, perché di documenti così, in questo Consiglio Comunale, credo così equilibrati, veritieri e ponderati, anche possibili nelle considerazioni, nelle premesse e negli obiettivi a un livello di questo tipo, non ce ne sono stati su un tema anche così delicato. Allo stesso tempo però prezzo anche il documento di Berdozzi, per quelle che sono non le conclusioni che non posso condividere e quindi non posso fare in questo caso un voto favorevole, però mi mi asterrò perché comunque nelle premesse e in alcune considerazioni, anche nel tatto dell'argomentazione in questa sede, mi ritrovo oggettivamente, quindi glielo riconosco. Quindi un voto favorevole per l'allegato B, un voto di astensione per l'allegato A e comprendo anche il discorso di Liverani e gli voglio ricordare che in quell'occasione io votai perché loro restassero in consiglio comunale di intervenire a favore. Grazie. Grazie a lei capogruppo, altre dichiarazioni direi di no perché stavamo per andare in votazione, quindi portiamo in votazione il punto 6, un secondo scusate, allegato A dal titolo Asl Romagna. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora l'allegato A viene respinto con 15 voti contrari, un voto di astensione e 8 voti favorevoli. Scusate, ho dovuto fare i conti. Portiamo in votazione sempre punto 6, allegato B, mozione incidentale, Ausr Romagna, prospettive. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? L'allegato B è approvato all'unanimità con 24 voti favorevoli. Procediamo quindi col punto numero 7, mozione, un piano operativo per il rilancio del centro storico 2023. Lascio la parola che è stato presentato dal gruppo consigliare Progetto Civico Faentino. Lascio la parola al capogruppo Zoli per la lettura e la relazione. Grazie Presidente. Il centro storico di una città rappresenta il cuore pulsante della stessa, quando esso funziona è in grado di attrare pubblico e turisti di genere e di generare benessere e business utile a tutto il territorio. Il centro di Faenza già prima della pandemia mostrava i segni del tempo ed era da tempo oggetto di attenzioni da parte del mondo delle istituzioni, impegnate nel tentativo di creare strategie di promozione, rilancio commerciale, sociale ed economico. Dopo questi anni nefasti che hanno messo a dura prova tutte le attività economiche, costretto alla chiusura alcune di esse, fortemente limitate a quelle sopravvissute, vive una fase di grandi crisi, necessità di attenzione prioritaria da parte dell'amministrazione comunale. Questa necessità di attenzione sembra ampiamente condivisa da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, come dimostrato dai numerosi interventi con oggetto sviluppo del centro storico o similari in Consiglio degli ultimi mesi. In data del 21.10.2021 è stata anche da noi votata la mozione Un piano strategico integrato per lo sviluppo del centro storico, presentata dal gruppo consigliare del Partito Democratico con numerosi spunti e azioni segnalate per il miglioramento delle condizioni del nostro centro storico. Siamo a febbraio, l'estate alle porte e noi come di consueto siamo a presentare una mozione sullo stato del centro storico. Lo abbiamo fatto l'anno scorso, l'anno prima e lo faremo anche nei prossimi anni, perché questo è il periodo giusto per mettere la testa seriamente sull'estate faentina. L'estate per motivi meteorologici è il periodo nel quale il centro storico di una città può sviluppare il massimo della propria attrattività e il nostro centro storico ha bisogno della massima attenzione e aiuto delle istituzioni per sfruttare a pieno le proprie potenzialità. Occorre pensare ad idee concrete per risvegliare la capacità di attrazione della nostra piazza e noi vediamo quattro argomenti che meritano questa attenzione e che potrebbero migliorare la situazione e l'attrattività del nostro centro. La comunicazione. Occorrerebbe un piano di comunicazione maggiormente efficace del centro, che tenga presente di un calendario di eventi condiviso e che ottimizzi la comunicazione di essi, dai più importanti a quelli più piccoli e deboli. Un calendario di eventi unico della nostra città agevolerebbe un budget di comunicazione probabilmente insufficiente per l'efficacia della campagna. Eventi. Indubbiamente gli eventi hanno grande forza di attrattività verso il nostro centro storico. Ne sono ad esempio le manifestazioni storiche della nostra città. come Made in Italy, Ergillan, May, i campionati italiani di bandieri, i martedì d'estate organizzati da Ferenza Centro o i martedì di agosto in collaborazione con il May. Risulta evidente che incentivare eventi in piazza è un grande aiuto per il nostro centro storico. La nostra piazza in passato ha ospitato grandi eventi. Perché questi sono svaniti negli anni? Si può pensare ad un budget di eventi da parte del Comune? In alternativa si possono stimolare gli organizzatori a rendere la nostra piazza una location appetibile per eventi, mettendo a disposizione degli stessi servizi organizzativi e tecnici come sicurezza, palco, sedie, come una sorta di bonus per ammortizzare i costi e il rischio di impresa degli eventi. Con la speranza che anche la nostra piazza possa diventare una location attrattiva per gli organizzatori di eventi. Negozi e commercio. Ferenza in passato aveva negozi con grande appile, anche per le città vicine. Boutique di grande qualità, con marchi esclusive, in grado di attrare clienti anche dalle città, da altre città. Ora invece molte di queste attività non esistono più. Tante vetrine languono, vuote da tempo. Cercare di attrare marchi e attività interessanti è certamente impresa difficile, ma dovuta. Lo shopping online e i centri commerciali hanno contribuito ad impoverire la nostra piazza. Occorre fare il possibile per invertire questa tendenza e riconquistare l'appeal perduto. Andrebbero proposti incentivi per chi investe in centro storico e semplificare la burocrazia per le imprese, promosse promozioni ed eventi tematici per gli acquisti in centro storico. I locali. È indubbio che i locali possono essere una grande attrattiva per il centro storico, forse anche maggiore rispetto agli eventi. Locali di qualità sono in grado di attrarre persone di ogni età, rendono vivo il centro storico di ogni città. Occorre incentivare gli imprenditori che hanno idee e volontà di investire. Molti dei negozi sfitti in centro potrebbero essere trasformati in locali e crearne attrattività. L'ostacolo principale è rappresentato dalla burocrazia e dalle stringenti regole legate a normative e a tempistiche di autorizzazioni che spesso rendono impossibili le conversioni dei negozi sfitti in nuove attività. Molti di questi locali chiusi sono destinati a restare tali perché mancano alcune di queste caratteristiche, come ad esempio i servizi. Molti negozi senza i bagni richiederebbero realizzazioni di nuovi scarichi per creare i quali occorrerebbe fare lavori impossibili da pensare. Secondo noi serve il coraggio di assumersi responsabilità, di proporre permesso in deroga, temporanea, ai imprenditori che portino idee interessanti. Si potrebbero rendere i bagni pubblici maggiormente fruibili e metterli a disposizione come servizi a quei locali che non ne possono realizzare dei propri, oppure disporre di bagni chimici per il centro storico e sopperire a queste mancanze. In fondo ci sono locali che in deroga possono continuare ad operare anche senza avere i servizi interni. Quindi cosa cambia? Tra uno nuovo a uno che ha 30 anni lo può fare. Vanno velocizzati i progetti di ristrutturazione parziale, magari derogando sugli interventi della sovrintendenza nei lavori che non modificano l'estetica e la struttura dell'immobile. Soltanto agevolando queste dinamiche si possono rendere possibili le riconversioni di questi locali, ripopolando il centro e arricchendo la proposta. Nelle passate edizioni abbiamo chiesto a organizzazioni di commissioni tematiche ad hoc che coinvolgessero assessori e consiglieri, le attività del centro, le associazioni di categoria, faenza centro, gli organizzatori di eventi faentini. Sono state presentate idee, si è parlato di progetti, ma purtroppo a nostro parere non siamo riusciti ad essere efficaci nel produrre miglioramenti concreti del nostro centro storico. Votando questa mozione si impegna il sindaco e la giunta insieme al consiglio comunale ad attivare un percorso all'interno della commissione consigliare seconda sviluppo economico, turismo e coesione territoriale competente circa il centro storico, affinché si possa raccogliere e valutare idee e azioni concrete utili al sostegno del nostro centro. Che si possa avvarare un piano operativo e concreto già per la prossima estate, che abbia come obiettivo primario il rilancio del nostro centro storico, partendo dai presupposti già votati nel piano strategico con l'aggiunta di idee presentate da tutti i gruppi consigliari uniti con la volontà di creare azioni concrete per il rilancio del nostro centro. Grazie a lei capogruppo, capogruppo Visani prego. Una domanda, scusate, il testo che ha letto il capogruppo Zoli è diverso da quello che abbiamo ricevuto. Se è una nuova versione, se ce lo può far avere o altrimenti chiedo chiarimenti su queste discrepanze di alcuni passaggi. Grazie. Capogruppo Zoli? Cioè, no, ho sintetizzato alcuni punti, in realtà era un po' lungo e ho sintetizzato e saltato alcuni pezzi, però il documento è quello presentato. Grazie, apriamo quindi la discussione. Capogruppo Bassani, prego. Grazie. Insieme agli altri gruppi di maggioranza abbiamo cercato di ampliare un po' il ragionamento su questo testo a partire dalla proposta che è arrivata dal capogruppo Zoli e abbiamo cercato di proporre un testo che cercasse di sintetizzare un po' i punti di vista che differivano sostanzialmente come dire, nell'approccio delle premesse, tanto che nell'interlocuzione che abbiamo avuto ci siamo ritrovati su quelli che sono gli impegni che come maggioranza volevamo andare ad ampliare e a confermare. Quindi, insomma, detto questo cerco un attimo di sintetizzare e di spiegare quello che ho appena detto. Nel testo che è stato presentato, oltre ad alcune, insomma, qualche imprecisione tra cui il fatto che anche il gruppo, che poi prima erano due gruppi, ma non importa, avesse votato la mozione, il piano strategico. Insomma, in realtà c'erano due incidentali e quindi la maggioranza ne ha votato uno e l'opposizione ne ha votato un altro. Ma al di là di questo, il testo è un po' pervaso da un sentimento piuttosto negativo su quello che è l'operato di questa amministrazione. Sicuramente ci sono, insomma, margini di miglioramento come in tutti i contesti, come in tutte le situazioni, però non ci sembra del tutto corretto sparare a spada tratta, insomma, mi verrebbe da dire, su tutto quello che in questi ultimi anni ha fatto l'amministrazione. Per esempio, proprio partendo dal primo punto che è stato portato all'attenzione, quello della comunicazione, in seguito anche alle proposte che abbiamo votato lo scorso anno e al percorso che è partito nella Commissione 2, è stato messo in campo un calendario unico delle iniziative del Centro Storico, che è stato denominato Fa Estate, con un canale social dedicato, insomma, i numeri ci dicono che il riscontro positivo c'è stato, poi, come dicevo prima, ovviamente, come ogni strumento nuovo che viene implementato ha sicuramente bisogno di aggiustamenti, integrazioni, migliorie e quindi sicuramente il confronto all'interno della Commissione 2 e non solo sarà utile anche in questo senso. Sul fronte degli eventi, i numeri del 2022 riportano, insomma, una situazione quasi di boom dopo i due anni di pandemia e di blocco sociale, possiamo dire, che abbiamo vissuto. Ci sono stati eventi organizzati da maggio a fine ottobre e questo penso sia assolutamente un dato di fatto. Per il primo anno sono stati organizzati anche eventi nel mese di agosto e sono stati supportati alcuni degli eventi che esistono da anni nella nostra città, come ad esempio il MEI, che svolgendosi a inizio ottobre già aveva risentito degli aumenti sui prezzi e sulle bollette. È stato aumentato il plafond per il bando eventi e questo ovviamente, come sappiamo, nonostante i costi che gravano anche sui costi generali e l'aumento dei costi generali che grava sul comune. Sul discorso, insomma, dei grandi eventi per portare in città più persone possibili. Sicuramente è una strada che si può valutare e percorrere. Ovviamente bisogna valutare bene il rapporto investimento indotto che c'è in questa tipologia di eventi che alle volte portano una grande quantità di persone nella città, ma magari in orari serali dove comunque non sono spesso aperti, ad esempio, negozi retail, insomma, negozi al di là dei bar, insomma, e degli esercizi pubblici. Poi, insomma, ci sono alcune cose che sono, come dire, appunti e richieste sicuramente insomma più che leciti, ma che in alcuni punti possono risultare un po' forse difficilmente percorribili. Questo perché, insomma, non dobbiamo dimenticare che ogni ente ha le sue competenze e quindi ci sono, insomma, problematiche burocratiche che ricadono non esclusivamente nella sfera di competenza del Comune. E quindi soprattutto, insomma, vengono citate alcune cose nei punti relativi, insomma, ai negozi e ai locali, a bar, a ristoranti. Detto questo, ovviamente non è che questa non deve essere letta come una giustificazione per una non-azione, ma anzi, ovviamente il Comune si deve far portatore di un'attività, se vogliamo, di, potremmo dire, di lobbismo nei confronti di questi altri enti. Detto questo, noi quello che avevamo cercato di proporre, come dicevo, di confermare e in un certo senso cercare di ampliare il più possibile quelle che sono le richieste che facciamo alla Giunta. Quindi, oltre a rinnovare, insomma, il percorso è già attivato all'interno della Commissione 2 e a chiedere, insomma, all'assessore competente di presentare un piano operativo per l'estate che sta alle porte. Vorremmo, insomma, cercare di chiedere che siano valutati dei percorsi per agevolare l'iter burocratico per le richieste di installazione di ideore esterni, cercare di snellire per quanto possibile la parte, insomma, che concerne quantomeno le competenze comunali e, come dicevo, insomma, far sì che questo calendario condiviso che è stato implementato nel corso di questo primo anno raggiunga, possa essere migliorato raccogliendo il feedback da quelli che sono i vari attori in campo in questo contesto e per quanto possibile iniziare, insomma, a ragionare su manifestazioni magari anche già esistenti nella nostra città che possano coinvolgere volta per volta zone diverse del nostro centro storico che per noi non è solo ed esclusivamente il perimetro della piazza, ma deve essere inteso appunto con numerose zone che stanno attorno alla nostra piazza. Tutto questo, insomma, per dire che noi anche in questo caso vorremmo presentare un testo incidentale che ho inviato alla mail della segreteria. Aspettiamo qualche minuto in attesa che riesca a arrivare il testo dell'incidentale. Ci sono tre minuti di pausa, vi chiedo di non allontanarvi dalla sala in modo tale da riprendere immediatamente possibile, manteniamo anche lo streaming. tempo tecnico per effettuare le copie. Aspettiamo, casomai, proprio i tre minuti. dato che ho dato la pausa, aspettiamo tre minuti in modo tale che chi è uscito possa assistere agli interventi. Grazie a tutti. 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 nel mentre dell'interruzione? Volevo comunicare una piccola modifica perché mi è stato chiesto di togliere i marchi come lo Zelic Tour, concerti importanti, Radio Brunestate, qualcuno mi ha chiesto se accettavo di toglierlo per avere il voto, per me non è un problema, quindi toglierei queste parole, secondo me erano un riferimento a qualcosa che comunque nel Faentino si ricorda ed era più facile raccontarla, ma non cambiano nella sostanza la mozione e quindi le tolgo, quindi da grandi eventi si passa direttamente a perché sono svaniti nel nulla. Perfetto, grazie. Stanno consegnando ora il testo della mozione incidentale come fatto nel punto precedente, chiameremo il testo originale allegato A e il testo incidentale allegato B. Sì, ne chiederei una copia anch'io. Chiedo di darne lettura, se si vuole dare lettura anche sintetica, anche perché molti elementi sono già stati esplicitati, casomai nella parte degli impegni. Ok, magari potrei anche rileggere direttamente la parte conclusiva degli impegni perché i punti su cui concentrare l'attenzione che stanno all'interno delle premesse bene o male li ho cercati di illustrare prima. Quindi tutto ciò premesso è considerato, si impegnano il sindaco e la giunta insieme al consiglio comunale, ciascuno secondo la propria competenza, a rinnovare lo sforzo e proseguire il percorso già aperto all'interno della Commissione consigliare seconda, sviluppo economico, turismo e coesione territoriale, competente circa il centro storico, affinché si possano raccogliere, valutare e mettere a sistema idee e azioni concrete, utili al sostegno del centro storico e della nostra città. A presentare in Commissione seconda quanto prima il piano operativo per l'estate 2023 con l'obiettivo di perseguire già per l'estate in arrivo un ampiamente e una piena operatività delle azioni a vantaggio del centro storico, partendo dai presupposti già votati nel piano strategico con l'aggiunta di proposte e idee presentate da tutti i gruppi consigliari, a valutare nell'ambito delle competenze in capo al Comune percorsi per agevolare l'iter burocratico sottostante le richieste per l'installazione di deore esterni, sia stagionali che permanenti, a proseguire ed ampliare le azioni a supporto del calendario condiviso delle iniziative estive del centro storico per raggiungere un bacino ancora più ampio di pubblico, ad espandere il coinvolgimento nelle manifestazioni del centro storico di tutta la parte di centro che non ruota immediatamente intorno alla piazza, per coinvolgere le attività interessate e incrementare la visibilità di quelle zone già avocate per presenza di strutture e attività a diventare quartieri tematici, come ad esempio il quadrilattico della ceramica, un quartiere del teatro attorno alla molinella, eccetera. Grazie, continuiamo quindi la discussione, chi vuole intervenire può chiedere la parola. Vice Presidente, prego. Grazie Presidente, allora intanto parto come prima sulla felicità di questi incidentali, quindi doveva essere un Consiglio Comunale molto breve, invece vedo che l'Unione fa la forza e quindi ringrazio un po' tutti di questi stimoli, quindi bravo al mio capogruppo Zoli. Quando ho iniziato a fare politica io credevo che l'assessore e il ministro, faccio un po' di prefazione, fosse per competenza, cioè che l'assessore allo sport fosse un campione di sport, l'assessore alla sanità fosse come il dottor Biolchini che ringrazio che quando parla con competenza io lo ascolto con attenzione. Quindi faccio presente alla maggioranza che se la minoranza che non governa come voi, noi siamo un organo di controllo e siamo eletti dai cittadini, però se qualcuno di noi ha delle competenze e può aiutare, come in questo caso Zoli che molte volte sul centro storico ha degli stimoli perché lo conosce bene, secondo me è da apprezzare. Vedo invece sempre in questo comune gentile, mi piacerebbe ad arrivare a una comunione gentile per il valore giusto del Consiglio Comunale della città. Faccio l'esempio, non calzante, è come se l'intervento dell'ospedale non lo dovesse fare il capogruppo Neri, che invece è stato un bel intervento, semplicemente perché lavori in ospedale, anche se in quel caso era un argomento diverso. Quindi mettendo al centro il centro storico, credo che forse manchi solo qualche informazione in più, come ho detto alla capigruppo ultimamente. Quindi se ci aggiorniamo, ci aiutiamo sugli eventi che ci sono e su come si può migliorare insieme, al di là di fare l'incidentale, si può fare veramente un documento comune. Quindi chiedo un po', come l'intervento che ha fatto il capogruppo Bertozze prima, che non potevo fare la dichiarazione di voto, che si anticipi un po' solo le informazioni. Cioè basta veramente poco, un po' di tatticismo di maggioranza, perché credo che comunque, come ha detto qualcuno prima, per farvi capire che sono sopra le parti, Faenza abbia fatto comunque per il post-Covid. Solo che ad oggi non sappiamo bene che cosa accadrà. Non dico il volantino come diceva lui, lo sapete voi, però un po' più di coesione e quindi è un peccato presentare un documento disgiunto che comunque, visto che dopo la dichiarazione di voto magari la fa il capogruppo, dico che voteremo anche questa volta entrambi favorevolmente. Grazie. Grazie Vicepresidente. Altri per gli interventi? Chiudo il capogruppo Bertozze, prego. Molto sinteticamente, poi mi riservo eventualmente una dichiarazione di voto. Condivido in toto il documento presentato dal progetto civico Faentino, anche perché ancora una volta ne apprezzo la concretezza, la concretezza delle scelte e la concretezza delle azioni. Questa volta non condivido invece la mozione incidentale, perché andandola a rileggere abbiamo avuto veramente poco tempo per dare un'occhiata, però sostanzialmente si va a ribadire che quello che c'è va bene e sostanzialmente è sufficiente. Le novità, le proposte strategiche, ma anche semplicemente le proposte tecniche non mancano, non ci sono. C'è un elenco di cose che sono state fatte, vengono richiamati gli eventi, i martedì d'estate, la cena itinerante, i campionati italiani di bandiere, più altre, tutte iniziative che già ci sono, va bene, bene che ci siano e che continuino, però non trovo nessun spunto nuovo e vengono tenuti sullo sfondo tutte quelle che possono essere le soluzioni concrete. Quindi così com'è non lo trovo utile. Devo notare una cosa, tutti e due gli ordini del giorno, ma questa è una mia considerazione, non tengono in considerazione un aspetto che invece è a mio avviso fondamentale per rendere effettivamente attrattivo il centro storico, il decoro non viene, è come se fosse un qualcosa di quello sì incidentale, se il decoro c'è va bene, se il decoro non c'è poi è la stessa cosa. Ecco, sarebbe importante invece rendersi conto che per rendere effettivamente attrattivo il centro storico e la città sarebbe opportuno rendere la prima di ogni altra cosa decorosa. Grazie, capogruppo. Consigliere Padovani. Dunque, nonostante il poco tempo di esposizione, ma nonostante ciò permette anche alcune riflessioni sul documento incidentale presentato dalla maggioranza, diciamo che alcune parole sono il segreto anche di certi documenti, almeno dal mio poco di esperienza che ho, questo documento vuole un po' troppo incensare l'operato di questa giunta riguardo questa tematica. Ebbene, se almeno a nostro avviso come area liberale dobbiamo fare una valutazione come le pagelle a scuola dell'operato di questa giunta nei confronti del centro storico, e poc'anzi ha ritenuto importante, come noi riteniamo importante, anche il decoro di certi luoghi che sono il cuore. Anche nelle premesse di questo documento c'è scritto che è il cuore, quindi il decoro deve essere come il cuore, tenuto perfettamente e questo incensa troppo l'amministrazione che secondo noi è un voto da 5,5, quindi non è insufficiente, ma merita alcuni miglioramenti a nostro avviso. Magari siamo anche un po' troppo crudeli, però le nostre pagelle sono queste e non ci piace che vengano incensati tanto, perché così tante parole costituiscono un voto positivo nei confronti di questa giunta, questo documento dice che gli potremmo dare anche un 7, noi siamo assolutamente contrari a dare una sufficienza, per il momento, sono passati solo 7 e metà mandato, quindi avete tutto il tempo per recuperare, diciamo rimandati a settembre, almeno questa è la nostra valutazione politica sulle scelte effettuate, quindi con questo documento, il nostro documento sarà di astensione come rimandati a settembre, mentre voteremo favorevolmente al documento presentato dal gruppo civico Paitino. Grazie consigliere, altri interventi? Chiudo la discussione, se i due proponenti vogliono intervenire nuovamente? Prego, capogruppo. Grazie a tutti, mi colpiscono alcune cose, mi colpisce la permalaginità di questo consiglio in alcuni punti, io ho sentito dire sparare a zero contro questa amministrazione, critiche di insoddisfazione verso questa amministrazione, queste sono le parole che ho udito, per sicurezza mi sono riletto la mozione perché ho detto, boh, magari mi sono sbagliato, ho scritto qualcosa e mi è sfuggito qualcosa e non me ne sono accorto. Cioè, io l'ho riletto e trovo due critiche, uno sulla comunicazione, dove dico che probabilmente il budget di comunicazione è troppo basso per una campagna efficace e dove, dico alla fine, sono state presentate idee, si è parlato di progetti, ma purtroppo non siamo riusciti ad essere efficaci nel produrre miglioramenti per il nostro centro storico. Queste sono le uniche due frasi di critica, se vogliamo, nei confronti di quello che è stato fatto in passato, quindi io sparare a zero e accusare di inefficienza non lo ritrovo in questo, poi insomma sono curioso di capire dove è stato letto. È chiaro che io cerco di portare delle idee, buone, cattive, giuste, sbagliate, cerco di portare degli stimoli, delle idee, dei progetti, questa è la mia indole, non mi interessa criticare. È chiaro che se porto delle idee evidentemente su un tema a cui tengo, credo che si possa fare di più, credo che non si sia fatto tutto quello che si poteva fare, quindi è chiaro una leggera critica nel passato c'è, però non trovo questa pesante critica che mi è stata aggiudicata. Mi è stato proposto un documento alternativo per condividere questa mozione, non cambiava sostanzialmente troppo nelle richieste, però era tutto un brava l'amministrazione ad aver fatto, complimenti perché sono state fatte, era più un complimento nei confronti dell'amministrazione che un modificare le richieste che facevo. Non mi sono sentito di accettare perché sinceramente non mi interessa fare dei complimenti, sono qui a portare delle idee, non ho bisogno di fare i complimenti alla Giunta, secondo me si può fare di meglio, questo è il senso e il concetto della mia mozione, quindi non mi interessa fare delle critiche, non mi interessa fare dei complimenti, voglio portare, se posso, un contributo e delle idee. Altre due cose, cosa è stato fatto? Sono state citate alcune cose, sul calendario unico è stato fatto, il primo anno ho proposto di creare questo calendario unico, abbiamo fatto tre commissioni e all'ultima commissione mi è stato detto che non riusciamo a gestirlo, il calendario unico, perché in comune non riusciamo a gestire un file a cui possono arrivare un po' tutte le informazioni e quindi è morta lì. Imparo ora, sono confesso, imparo ora che è stato creato questo che dovrebbe essere il calendario unico che si chiama Fa Estate, è un profilo Instagram, l'ho scoperto adesso, quindi già dal punto di vista di comunicazione probabilmente qualche pecca c'è, dei miei colleghi consiglieri, ho chiesto, nessuno di loro era al corrente che c'era questa cosa. È un profilo Instagram che ha circa 800 follower, mi sono sfogliato un po' delle 52 post fatti, mediamente hanno 6-7 like, quindi io non voglio criticare nessuno, però se questo è lo strumento di comunicazione che deve risolvere il nostro centro storico, un pochettino sono preoccupato. Non mi sembra efficace, questo se andiamo a vedere i dati, sì lo critico, non mi piace guardare i dati, si è parlato di boom del 2022, non mi piace guardare i dati. Io in piazza ci vivo, io in piazza ci vivo. È vero che ci sono stati grandi eventi che hanno avuto un'affluenza più importante rispetto agli anni scorsi, perché dopo due anni di Covid la gente aveva voglia di uscire e di partecipare agli eventi. ma se qualcuno di voi è passato in piazza l'estate scorsa, nelle serate in cui non c'era nulla rispetto alle due estate precedenti, un deserto, un disastro. Io sono partito un venerdì sera alle 22 e ho fatto anche le foto, mi hanno mandato le foto dalla piazza di Faenza, era un venerdì sera alle 22, non c'era un locale aperto e non c'era una persona in piazza. Sono andato a Cesena, mezz'ora, 40 minuti, sono arrivato a Cesena, c'erano 20 locali illuminati pieni di gente, la stessa sera, il tempo di arrivare. Quindi io la valutazione che faccio l'estate scorsa, al di là del numero globale, non so bene da dove arrivino queste statistiche di presenze faentine, sinceramente li leggo, li ho letti, però io che ho vissuto alla piazza non l'ho visto, questo boom del 2022, sinceramente. Quindi io sono qui a portare delle idee, non a criticare nessuno e neanche a elogiare. Se c'è qualcosa che mi sembra migliorabile, provo a dare il mio contributo per farlo. Concordo sul decoro, concordo assolutamente sul decoro. Ne parlai probabilmente l'anno scorso, per non annoiare, cerco di cambiare, no? Perché tanto c'è la mozione sul centro storico, la presenterò anche a gennaio o febbraio dell'anno prossimo, quindi cercherò di parlare di altro e di trovare cose nuove. Quindi, detto questo, faccio anche la dichiarazione di voto, voteremo positivamente, questa volta voterò anche io positivamente la mia mozione, la nostra mozione, voteremo in maniera positiva anche la mozione incidentale presentata dalla maggioranza, perché ripeto, come contenuti ci stava, non mi interessava il concetto di elogiare per poi presentare idee nuove e modifiche. Grazie. Grazie a lei, capogruppo. Capogruppo Bassani vuole replicare, prego. Sì, ma proprio molto velocemente. In realtà, nel testo che abbiamo presentato, quello che abbiamo cercato di riportare non è tanto un elogio, quanto un elenco di attività svolte o di numeri che sono stati registrati da chi registra le frequenze turistiche nella nostra città. Potremmo dire una situazione esis, fattuale dell'oggi, di quello che è l'azione dell'amministrazione sul centro, quindi più un punto di partenza, più che un elogio to cure per presa di posizione. Poi, semplicemente, ma ci tenevo ad aggiungere che noi lo abbiamo preso come uno stimolo e abbiamo provato ad ampliare il più possibile gli impegni, penso anche con una buona dose di concretezza, questo per rispondere ad alcune considerazioni fatte. Grazie. Grazie a lei. Apriamo quindi le dichiarazioni di voto. Capogruppo Zoli. Confermo il voto positivo ad entrambi le emozioni. Volevo aggiungere solo una cosa, che se anche fosse, ricordo che normalmente il ruolo della maggioranza, probabilmente quello di elogiare le cose fatte, quello della minoranza, forse è più quello di criticare. In realtà, appunto, a me non interessa né elogiare e criticare, a me interessa portare un contributo attivo. Grazie. Altre dichiarazioni? Mertosti e poi Luccaroni, prego. Molto brevemente ribadisco la dichiarazione di voto favorevole all'ordine del giorno presentato da Progetto Civico Frentino. E avendo ascoltato invece le motivazioni e le repliche del capogruppo Bassani, mi sono convinto di votare in maniera contraria a quest'ordine del giorno, perché io di concreto non ho trovato nulla, ho trovato molto invece di ideologico. Grazie. Capogruppo Luccaroni. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Non voglio entrare in una parte importante del dibattito che ci ha preceduto, che era sostanzialmente sull'elogiare e sul criticare, quindi fondamentalmente sul tono, queste due mozioni, forse più sulla parte delle premesse dei considerato, che peraltro costituiscono parte integrante dei testi, quindi non voglio mettere in discussione le considerazioni che sono state fatte da tutti. Nel valutare come orientarci come votazione, quindi come dichiarazione di voto, semplicemente rileviamo come la seconda mozione presentata a livello di impegni, quindi stiamo parlando di una mozione, cioè di un testo che impegna operativamente a fare cose, la seconda mozione, quella incidentale presentata ci sembra assolutamente più completa e forse anche innovativa negli impegni, peraltro contenendo anche due degli impegni che facevano parte della mozione di progetto civico-faentino, pertanto voteremo questa seconda mozione favorevolmente, mentre voteremo contrari alla mozione precedente che ci sembra più, al di là di quelle che sono le questioni del tono, dal punto di vista operativo, contenere due impegni che di fatto ricalcano già in maniera sostanziale gli impegni che hanno stati presi nella mozione dell'anno precedente e non aggiungono niente di significativo a quella che è l'operatività attuale. Grazie Presidente, io a questi documenti occidentali sono sempre un po' dubbioso, chiaramente siamo a favore del documento del progetto civico-faentino e siamo contrari all'ordine del giorno che ha presentato la maggioranza, anche perché mi sembra più una bandierina, dire noi facciamo, noi siamo bravi, noi qua, insomma sono assolutamente contrari a questi documenti così accidentali che poi portano solo, come ho detto prima, a una bandierina per dire che insomma voi avete fatto e di cose da proporre, non ce ne sono, di cose nuove, quindi votiamo in modo contrario. Grazie, altre dichiarazioni? Padovani? Sì, brevemente, anche perché poc'anzi l'avevo già anticipato. Farei più vicino al microfono. Brevemente perché anche poc'anzi l'avevo già anticipato. All'ordine del giorno, alla mozione presentata incidentale, presentata dalla maggioranza, ci sterremo, mentre è presentata quella dei civici, voteremo favorevolmente. Faccio presente una cosa che giustamente hanno fatto presente prima di me il capogruppo Zoli e il capogruppo Bertozzi, sull'importanza di questo decoro urbano, anche mi ricordo benissimo l'interpellanza prodotta dall'allora unico capogruppo consigliere Zoli, che era quella sui piccioni. Teniamocelo presente l'assessore di riferimento che rispose e che oggi siamo ancora con quella problematica. Teniamolo presente. Grazie a lei, altre dichiarazioni? Chiudiamo quindi la fase di dichiarazione, portiamo in votazione il punto numero 7, prima l'allegato A, dal titolo Un piano operativo per il rilancio del centro storico che è stato presentato da Progetto Civico Faentino. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? l'allegato A, il documento è respinto con 8 voti favorevoli e 15 voti contrari e nessun voto di astensione, i votanti erano 23. Procediamo quindi sempre al punto 7, l'allegato B, dal titolo Aggiornamento 2023, piano per il centro storico. L'allegato B, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? l'allegato B del punto 7 è approvato con 19 voti favorevoli, 3 voti contrari e un voto di astensione. Andiamo avanti con il punto numero 8, un ordine del giorno, sostegno alla situazione delle donne in Iran. Questo ordine del giorno è stato presentato dai gruppi consigliari Faenza Cresce, Partito Democratico, Faenza Coraggiosa, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Area Liberale e hanno chiesto di sottoscrivere il testo anche i membri del gruppo Progetto Civico Faentino. Lascio la parola per la lettura al capogruppo Luccaroni. Sì, grazie Presidente. Brevemente abbiamo inteso con questo testo, anche se è un testo lontano dalle dinamiche urbane del comune di Faenza, ma ci sentiamo vicini per le dinamiche di lotta per la libertà che stanno mettendo in campo in Iran e di cui crediamo negli ultimi tempi, complici forse un'altra serie di eventi, notizie eccetera, si parla e si dibatta troppo poco per quello che sta succedendo, per cui ci preme riportare un po' l'attenzione del dibattito anche locale a questi eventi. do lettura, premesso che il 16 settembre 2022 Masa Amini, 22 anni, è morta in seguito alle percose subite dopo l'arresto da parte della Polizia Morale a Teheran, perché è sospettata di non indossare correttamente il velo secondo quelle che sono le regole della Commissione per la protezione della virtù e la repressione del vizio. La morte della giovane ha fatto esplodere numerose proteste da parte delle donne iraniane in numerose piazze, rivendicando il loro diritto alla libertà, alla parità dei diritti civili, sociali e politici. Nei confronti di tali proteste il governo iraniano ha messo in atto una repressione durissima e violenta. Dopo oltre tre mesi dall'inizio delle proteste, alla fine del 2022, purtroppo si contano oltre 500 manifestanti uccisi, di cui 69 minorenni, due ragazzi di 23 anni sono stati impiccati nella pubblica piazza come monito per i manifestanti e altre 26 persone sono state condannate a morte. Questi dati sono aggiornati alla fine del 2022, nel frattempo sono passati quasi due mesi. L'inizio del 2023 si è aperto con il trasferimento in isolamento, passaggio che precede l'esecuzione di altri due giovani, 22 e 19 anni. Tale fatto ha generato un'ulteriore protesta nella notte tra l'8 e il 9 gennaio. In seguito, il 27 gennaio, Amnesty International ha diffuso la notizia che altri tre ragazzi, 18, 19 e 31 anni, sono stati condannati a morte dopo essere stati torturati nei modi più barbari e inindicibili. In ogni caso le proteste non si placano. Donne e uomini continuano le manifestazioni di dissenso e ribellione nel paese. Considerato che la repressione violenta della polizia non ferma la protesta delle donne iraniane, che sostenute anche da molti uomini, continuano a manifestare al grido di donne, vita e libertà. In Italia e in altri paesi crescono manifestazioni di solidarietà alle donne iraniane affinché si faccia pressione da parte di tutti gli organismi internazionali sul governo iraniano, perché riconosca e tutele i diritti umani. In data 24 novembre 2022 anche le Nazioni Unite sono intervenute con una propria risoluzione, nella quale, dopo aver sottolineato il deterioramento della situazione di diritti umani nella Repubblica Islamica dell'Iran, ha istituito una missione di inchiesta internazionale indipendente con il mandato di indagare la violazione dei diritti in Iran, facendo chiarezza sui fatti avvenuti. In data 23 gennaio 2023 anche il Consiglio QE, con la decisione di esecuzione 2023-153, deplora il diffuso e sproporzionato ricorso alla forza da parte delle forze di sicurezza iraniane nei confronti di manifestanti non violenti. Si chiede altresì che i responsabili dell'uccisione di Masamini debbano essere chiamati a risponderne e si invitano le autorità iraniane a garantire indagini trasparenti e credibili per chiarire il numero di persone decedute e gli arresti. Inoltre si invita a rilasciare tutti i manifestanti non violenti garantendo un giusto processo per i detenuti. Il Consiglio QE richiama anche le istituzioni iraniane alla decisione di limitare drasticamente l'accesso a Internet e a tutte le piattaforme di messaggistica, rappresentando questo una grave violazione della libertà d'espressione. La sua indicata decisione si concluse con l'elenco di numerosi funzionari e soggetti governativi che sono state condannate a misure restrittive UE in considerazione della situazione in Iran. Si rileva altresì che l'esempio di Masamini rappresenta una testimonianza di coraggio e determinazione nella lotta per i diritti delle donne e un'ispirazione per coloro che continuano a lottare per la libertà e l'uguaglianza. È importante promuovere la sensibilizzazione sulla situazione delle donne in Iran e sulla repressione del governo nei confronti delle manifestazioni per la libertà della donna, nonché sostenere gli sforzi per la difesa dei diritti delle donne. Tutto ciò premesso e considerato, al Comune di Faenza si chiede di intervenire in tutte le stedi istituzionali, regionali e nazionali, per sostenere, replicare e promuovere iniziative di sensibilizzazione e sostegno alla situazione delle donne in Iran e contro la repressione del governo nei confronti delle manifestazioni per la libertà della donna. Intitolare uno spazio pubblico a Masamini come segno tangibile di sostegno e riconoscimento della sua lotta per la libertà delle donne e come esempio di martire per i diritti umani, favorire la creazione di partnership e collaborazioni con associazioni e organizzazioni costituite dalle sostenitrici e sostenitori del movimento delle donne iraniane. In particolare, in occasione della festa dell'8 marzo, valorizzare e far conoscere la storia di Masamini e delle altre donne e uomini che stanno resistendo a rischio della propria vita e lottando per la libertà. Grazie. Grazie a lei capogruppo, apro la discussione, chiudo la discussione, apro la dichiarazione di voto. Capogruppo Bertotti, scusi. Brevemente la dichiarazione di voto favorevole ritengo l'ordine del giorno condivisibile. Grazie. Consigliera Silvagni, prego. Molto brevemente sosteniamo con forza questo ordine del giorno, anche se può essere un tema lontano dalla quotidianità della cittadinanza faentina, è comunque nostro compito come persone che si sono candidate a rappresentare la cittadinanza, gli uomini e le donne che ci hanno votato, accendere e fare anche sulla violenza e sulle discriminazioni perpetrate da regimi militatoriali. Vorrei sottolineare che questo ordine del giorno, negli impegni al Comune di Faenza, viene ricordata la ricorrenza dell'8 marzo come occasione per parlare di Masa Mini e della situazione delle donne in Iran. L'8 marzo ricordiamoci che la motivazione per cui ricordiamo l'8 marzo non è per festeggiare le donne, ma l'8 marzo è la giornata internazionale dei diritti della donna, non è la festa, la motivazione ma la riflessione, ricordando le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui tutti i giorni le donne sono vittime. In questo sosteniamo quindi con forza questo ordine del giorno e voteremo favorevolmente. Grazie consigliera. Altre dichiarazioni? Chiudo la fase di dichiarazione e porto in votazione il punto numero 8, sostegno alla situazione delle donne in Iran. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'ordine del giorno è approvato all'unanimità, i votanti presenti erano 22. Abbiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno, è un ordine del giorno anche questo, dal titolo Revoca e lascio la parola al presentatore di area liberale, il consigliere Padovani. Grazie Presidente. Premesso che nei primi 15 giorni circa i due Velocar hanno prodotto sanzioni per la montare di 527.451 Euro su un totale di 3.610 sanzioni, di cui quello installato sotto al ponte ha prodotto circa il 70% del totale. Considerato che è notizia che all'inizio del mese di febbraio il giudice di pace ha annullato il ricorso di un automobilista che aveva commesso 11 infrazioni al codice della strada per limite di velocità. Infrazioni rilevate dal velo si è installato sul ponte rosso. Il 28 ottobre 2022 il velo che era in questione è stato riposizionato in maniera da renderlo più visibile ai automobilisti su indicazione della prefettura. L'articolo 24,1 dello Statuto del Comune di Faenza prevede che i singoli assessori cessano la carica a seguito di revoca da parte del Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale. Rilevato che anche consiglieri di maggioranza ritenevano che la collocazione di tale velo non fosse del tutto a norma, dichiarando che è necessario considerare la rimozione del velo per non generare un danno, anche erariale, nella peggiore delle ipotesi per le casse del Comune. Si chiede al Sindaco di procedere con la revoca alle funzioni dell'assessore Massimo Bosi per giusta causa e per un rischio comprovato di danno erariale. Ora, questo documento è stato scritto prima che si avesse notizia anche degli allunamenti delle sanzioni prodotte anche dall'altro velo, notizia emersa sui giornali da parte di un altro giudice. Quindi oggi siamo di fronte a tutti e due i velo ritenuti da due interpretazioni, come è emerso anche qui dalle giornali, da due interpretazioni a detta di alcuni, interpretazioni individuali, ma di due ben giudici differenti, su due velo diversi. Ora, è giusto per non equivocare dopo e esacerbare alcuni toni, è giusto anche fare un po' di chiarezza, perché bisogna intanto capire cosa si intende per sicurezza stradale con strumenti, dispositivi attivi o passivi, premesso già che il velo non rientra in nessuno delle due case dei strumenti. Faccio un esempio, strumento attivo per la sicurezza stradale, il strumento attivo è l'ABS di un'auto, cioè è quello strumento che aiuta, facilita nell'avvenuto imprevisto, facilita non avere l'incidente stradale attivo. Strumento passivo è tipo, per esempio, se ne è discusso molto anche del guardrail, cioè avvenuto l'imprevisto io vado ad avere questo incidente, però un guardrail o le cinture di sicurezza, per esempio, mi permettono di attutire il colpo, come si suol dire. Mentre il velox è uno di quegli strumenti, velocar, è uno di quegli strumenti contemplati come deterrente. Ora, la definizione di deterrenza, è importante questo, molto importante anche perché si sono basate le sentenze dei due giudici di pace, la definizione di deterrenza è qualsiasi mezzo la cui semplice esistenza consente di dissuadere l'individuo. Quindi è già contemplato nella parola deterrenza il fatto che lo strumento debba essere sia lui visibile che anche la cartellonistica debba essere altamente visibile come hanno giustificato i due, ribadisco, due giudici di pace. Detto questo, è normale dire che ci siano state delle infrazioni al codice stradale? Certo, tanti hanno superato quel limite. Ci mancherebbe. Qui nessuno lo vuole negare, ma parte da un vizio di forma. Se vogliamo essere tanto giustizialisti su cui infrange le regole, dobbiamo essere altrettanto noi super rispettosi di quelle regole e non infrangerle noi per primi. E sulla base di questa le abbiamo definiti queste persone che hanno ottenuto l'annullamento di queste sanzioni grazie alla sentenza di un giudice, hanno ottenuto quindi legalmente l'annullamento di queste sanzioni. Non possiamo definirli furbetti perché se li definiamo furbetti loro è furbetto anche colui che elude o perlomeno dichiarazioni anche queste venute alla stampa, l'assessore ha dichiarato che il velo spostato prima era in regola ora lo è ancora di più. No, scusate, la regola è regola, non c'è essere un po' meno in regola o un po' più in regola, si è essere in regola punto. Già il fatto che si dica prima era in regola ma adesso lo è ancora di più presuppone il fatto che non lo fosse del tutto prima, come giustamente il giudice di pace dopo di che ha annullato quelle undici muti, grazie al fatto che prima diciamo era in regola ma ora lo è un po' di più. C'è una cosa in regola è in regola, punto, né di più e né di meno dalla regola esiste. Quindi sulla base di questi presupposti già il fatto alla risposta, la risposta che mi ha dato l'assessore prima all'interpellanza c'è il rischio del danno erariale. Perché? Già il fatto che ci sia, il comune abbia l'intenzione di fare ricorso in appello per annullare queste sentenze di due giudici differenti. Già qui presuppone, potevamo evitarlo sulla base di che cosa? se si fosse utilizzata più oculatezza e non si avesse, si dà l'idea, l'assessore ha dato l'idea, l'assessore in questione ha dato l'idea di questo giustizialismo, di questa voglia di far rispettare le regole per forza. perché ci sono tanti motivi per la deterrenza, tanti modi per la deterrenza e di impedire la velocità. Vedi? Poi se vogliamo proprio punire l'automobilista scorretto, è giusto farlo. È giusto. Per carità sono il primo a dire che una delle cause principali di incidenti stradali è proprio l'alta velocità. ci mancherebbe. Questo è assodato, questa è statistica. Ci mancherebbe. Nessuno qui mette in discussione il fatto che qualcuno abbia infratto le regole. Ma partiamo con un vizio di forma del fatto che lo Comune stesso, l'assessore competente, ha leggermente infratto le regole, non ha rispettato totalmente quelle regole che due giudici hanno detto così. Poi ci mancherebbe la difesa qual è? Almeno, letta sempre sui giornali. Quella che è un'interpretazione di un giudice, oggi di due. Ma è un'interpretazione, scusate, proprio voi che fate parte del Movimento 5 Stelle, oggi mi andate a criticare le sentenze dei giudici? Cioè oggi, io mi ricordo, ancora prima che ci fossero le sentenze dei giudici, uno, qualsiasi era condannato. Oggi il giudice, veniamo a scoprire che il 5 Stelle, per fortuna, siete maturati, ve ne do atto, siete maturati, ve ne do atto, oggi scopriamo che il 5 Stelle può mettere in discussione alcune sentenze dei giudici, ritenendole interpretabili. Sono d'accordo. Su questo fronte, su questo versante, sono d'accordo. Può essere a libera interpretazione. Ma detto da voi, stride, scusate, ho sentito tantissime altre cose, e l'indispettimento da parte sua, mi scusi Assessore, mi scusi profondamente, ma proprio lei, nella passata amministrazione, chi era presente ricorda bene le due emozioni di sfiducia. Una era proposta dal Movimento 5 Stelle, che allora era un gruppo lei, se non erro. Per l'espluzione di sfiducia l'Assessore di ieri e il Presidente del Consiglio Campodoni, chi era qui. Quindi, non è una pure semplice formalità. Che l'esito del voto io lo abbia già in testa, ci mancherebbe. Lo abbiamo già tutti in testa, anche prima che io lo scrivessi, lo scrivessi quest'ordine del giorno, sapevo già l'esito della sentenza, del voto. Lo sapevo già. Ma non per questo, non è questo il motivo per il quale io presento quest'ordine del giorno, è per mettervi di fronte all'evidenza dei fatti. Evidenza dei fatti che ho motivato. Non si tratta, la questione non è l'autoveloce giusto, l'autoveloce sbagliato, la percezione della velocità, è un bancomat, non lo è. È il fatto che stiamo mettendo, sto mettendo in discussione l'Assessore Bosi nel ruolo che riveste, per queste motivazioni, per queste motivazioni. È un altro il discorso, è un altro. Grazie. Grazie a lei consigliere, apro la discussione. Capogruppo Bertozzi, poi Capogruppo Neri. Grazie. Allora, intanto ringrazio il Capogruppo, il Consigliere Padovani per aver presentato quest'ordine del giorno, perché ci dà l'opportunità di affrontare in sede consigliare un tema che mi dispiace contraddirla, non è una perda di tempo, Assessore Bosi, perché lei prima rispondendo all'interrogazione del Consigliere Padovani ha detto sembra che questa amministrazione faccia le cose a caso, è tutto tempo che questo Consiglio non dovrebbe perdere, non è una perda di tempo. Mi dà soprattutto la possibilità di raccontare in sede istituzionale con date e documenti precisi del perché siamo arrivati a questa situazione. Oltre che c'è anche un aspetto politico che si è aperto proprio oggi con le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, è venuta fuori, a mio avviso, una spaccatura all'interno della maggioranza piuttosto evidente su un tema che è derimento. E sapete tutti a che cosa mi riferisco, ma non è tanto questo, però è un fatto, è un fatto che è accaduto. Leggendo oggi il comunicato del Movimento 5 Stelle ho trovato anche alcune motivazioni, devo dire, surreali, soprattutto per quello che ha detto anche prima il Consigliere Padovani. Però dicevo io voglio raccontare perché siamo arrivati qui, perché se siamo arrivati qui c'è tanto lavoro dietro e alcune considerazioni. Voi avete fatto partire quei Velox a circa l'8 di settembre del 2022. Come gruppo di Fratelli d'Italia mi aiuto con degli appunti perché voglio essere preciso sulle date. Ho presentato un'interrogazione il 12 di settembre, la cui risposta è stata giudicata insoddisfacente, si aprì un dibattito piuttosto acceso in quella sede consigliare e ciascuno è rimasto fermo sulle proprie posizioni. Mi si in guardia allora sull'arbitrarietà e sulla carenza di alcune scelte che erano state fatte dall'amministrazione e dall'assessore Vosi in particolare. Mi fu risposto che era tutto a posto, che era tutto in regola. Il 30 di settembre, quindi circa 18 giorni dopo, ho presentato un'esposta al prefetto con richiesta di sospensione, ho detto attenzione, chiedevo in questo esposto, non lo sto a leggere tutto, ce l'ho con me, eventualmente lo posso mettere a disposizione, in cui chiedevo di sospendere in attesa di valutazioni tecniche. In maniera un pochettino irrituale, mi viene da dire, l'ho dichiarato alla stampa ma lo ribadisco in questa sera, il prefetto non ha risposto a me e il 6 ottobre ha fatto una nota, che sono riuscito ad ottenere con una richiesta di accesso agli atti, direttamente al sindaco, dove diceva una cosa molto importante, diceva la regolarità della scelta, si cita il parere della polizia stradale, ma non si dice nulla sul posizionamento. Però succede un'altra cosa, che il sindaco utilizza chiaramente questa nota del prefetto per dire è tutto a posto, siamo in regola, non c'è niente da cambiare. Il 6 ottobre, lo stesso giorno, richiedo di poter accedere al parere della polizia stradale che in quella nota il prefetto cita, qui dopo vi dirò su questo parere. Il 10 ottobre, dopo che ho fatto un altro comunicato stampa, il prefetto emette una seconda nota, questa volta indiristata solamente a me in risposta, all'esposto. E questo già mi sembra più rituale, perché se faccio una domanda io, va bene rispondere al sindaco, non sono nessuno, però è opportuno rispondere anche a me. In questa nota il prefetto dice, e qui vado sul letterale, ho un virgolettato, perché io avevo fatto una richiesta specifica, ho detto, ma siamo sicuri che il posizionamento nascosto sull'impalcato di quella attrezzatura sia conforme alle regole? Il prefetto in chiusura dice, infine, con riferimento al rilievo circa la non corretta installazione delle apparecchiature, si comunica che la prefettura svolgerà a mezzo degli organi di polizia stradale tutte le attività necessarie atte a verificare, nel caso di specie, la sussistenza e rispetto dei requisiti previsti sia negli articoli 142 del codice della strada, 79, 125, che nella accennata direttiva ministeriale, che è quella che stabilisce che anche l'apparecchiatura debba essere visibile. Allora, qui si apre, dal mio punto di vista, un primo problema. Se il prefetto dice che avvierà un'attività istruttoria e che darà mandato alla polizia stradale, perché Assessore Bosi, nelle more di quella istruttoria, lei non ha sospeso l'erogazione, cioè l'attività di quel veloca? Secondo me sarebbe stato opportuno, doveroso e anche trasparente, perché lei fra le altre deleghe anche quella alla trasparenza. L'11 di ottobre, quindi il giorno dopo, il dirigente della polizia locale, in risposta alla mia richiesta del 610, io volevo vedere cosa diceva la polizia stradale, perché io non sono un esperto di queste cose, mi risponde che il parere della polizia stradale non è accessibile e devo chiedere direttamente al prefetto. Cosa che faccio? Il 1410, faccio una richiesta di accesso agli atti, di nuovo alla prefettura, maestro Pec dice mi fate vedere il parere della polizia stradale e scrivo anche sempre una Pec alla questura, responsabile della polizia stradale, mi fate vedere il parere della polizia stradale, vorrei vedere se è stata valutata la posizione, perché a mio punto era la posizione, perché dopo faccio anche un ragionamento politico su questo. Il 24 di ottobre, cioè quindi dieci giorni dopo, la questura mi risponde affermando che si conferma la nota prefettizia, ma, e anche qui è un virgolettato, si resta in attesa degli esiti del sopralluogo posti in essere dalla sezione della polizia stradale, significando che la materia non rientra nelle competenze dello scrivente, cioè dice non è la questura, ma è la sezione polizia stradale. Comunque la questura dice, la polizia stradale sta accertando, anche qui è già passato un mese, sono state elevate le sanzioni con i numeri che ha citato il consigliere Padovani, a nessuno nell'amministrazione, sempre per rispetto del cittadino e per trasparenza, alla sezione particolare viene in mente, aspettiamo un attimo, vediamo che cosa dice la polizia stradale. Il 26 di ottobre, due giorni dopo, scrivo l'ennesima Pec, questa volta alla sezione della polizia stradale, mi fate la cortesia di farmi vedere che cosa state facendo, vorrei vedere che fosse scritto. Non succede niente. Il 27 di ottobre, il giorno dopo, il prefetto mi scrive, cita gli accertamenti compiuti, qui adesso vado sul letterale, che è la nota e dice, di seguito alla nota indicata in oggetto, che è la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento prefettizio, stiamo parlando dell'esposto che avevo fatto il 30 di settembre, di seguito alla nota indicata in oggetto e alla luce dello svolgimento degli accertamenti compiuti dall'organo di polizia stradale, atti a verificare la sussistenza e il rispetto di requisiti previsti sia negli articoli 142 del codice comma 6 bis del codice della strada 79 e 125, che nella cenata direttiva ministeriale, con riferimento alla caricatura installata al chilometro 62, quella sull'impalcato, che rileva la vocella di veicoli in direzione di marcia verso Iman si comunica quanto segue, che ragioni di opportunità e trasparenza dell'Unione dei Comuni, hanno deciso di spostare di ragioni di opportunità e trasparenza, dopo che si cita il parere della polizia stradale, ma la cosa che davvero più sorprende, perché io con questo parere, nonostante in un giorno avete spostato sostanzialmente opportunità e trasparenza un mese e mezzo dopo, dopo che erano state elevate tutte quante quelle sanzioni e dopo che avevate rifiutato delle nostre banali richieste, spostate, aspettate, non abbiamo detto va bene, non va bene, verifichiamo, non lo avete fatto e avete continuato nel frattempo irrogando sanzioni, che la maggior parte di queste sono state pagate nei 5 giorni sul prendo dello sconto, quindi non è più possibile ricorrere qua, che invece il cittadino ha deciso di andare avanti. Però vado oltre, perché poi questa cosa non finisce. La Polizia di Stato mi scrive, siamo al 28 ottobre, quindi 4 giorni dopo, dicendo che sta mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari. Ma la ciliegina sulla torta è invece la nota della Polizia Locale del 6 di dicembre del 2022, stiamo parlando della fine dell'anno scorso, dove mi viene rifiutata la copia della nota prefettizia protocollo 96682 dell'URF dell'11 dicembre e del parere negativo della postura. Cioè io in un documento rilasciato da questa amministrazione comunale, dalla Polizia Locale, ritrovo in oggetto, leggo anche qui un letterale, riscontro a richiesta di accesso agli atti, capogruppo consigliare Fratelli d'Italia, riacchiesto di accesso agli atti, copia della nota prefettizia protocollo 96682 URF dell'11 novembre 2022 e del parere negativo della postura. Io apprendo in questa il 6 di dicembre che quello che lei, assessore, ha dichiarato come un atto di buona volontà nei confronti della cittadinanza, beh io apprendo che c'è un parere negativo della questura. Il comando della Polizia Locale, il dirigente, il dottor Vasco Talenti, mi rifiuta comunque l'atto perché dice non è di tua competenza, dice con riferimento alla richiesta di accesso agli atti di cui in oggetto si comunica che la nota contenente il parere di oggetto contiene un vincolo di non divulgazione, quindi non te la faccio vedere. Ok, perfetto. Sicuramente in quella nota c'è scritto che va tutto bene? No, perché nell'oggetto avete scritto, l'avete scritto voi, non l'ho scritto io, che c'era un parere negativo a monte. Allora a me viene spontaneo dire ma è sulla base di quel parere negativo che voi avete deciso di spostare? Io ritengo veramente di sì. Sicuramente questa nota nasconde una opacità, scarsissima trasparenza dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e la sicurezza è una scusa, lo dice il fatto perché se può essere comprensibile, forse mi fossi trovato ad essere al suo posto, ad essere maggioranza, forse probabilmente avrei utilizzato l'autovelox anche come strumento di deterrenta ma anche per fare cassa, per questa è la verità. Ma con una differenza molto importante che il milione di euro, il milione di euro che voi avete accertato, non incassato e qui ci potrebbero essere dei problemi sul prossimo bilancio, non è stato utilizzato per aumentare la sicurezza stradale, che avrebbe avuto fondamentalmente anche il nostro applauso, perché la sicurezza stradale non c'è non solo per la velocità ma per una situazione della rete stradale di aria del comune di Faenza disastrosa, disastrosa. Lei sa benissimo che non sono solamente quelle sanzioni che sono state elevate per ricorso delle 11 contravenzioni di questa persona che comunque ha continuato a superare il limite di velocità, le uniche che il comune in primo grado ha perso. Il tempo è scaduto. Sì, altri ricorsi sono stati presentati, voi avete destinato quel milione di euro per il pagamento delle bollette, quindi sostanzialmente per tenere in equilibrio il bilancio statale. Questa si chiama cattiva amministrazione, cattivo esercizio della gente, della delega che l'è stata assegnata, il mio è un giudizio puramente politico e ci sarebbero molte cose che lei dovrebbe chiarire, soprattutto alla luce dei documenti che io ho citato questa sera. Grazie Capogruppo, Capogruppo Neri che si era prenotato, prego. Grazie Presidente, abbiamo già le sentenze, registriamo che sia il consigliere Padovani che il Capogruppo Vertossi hanno già le sentenze in mano del terzo giudizio. Allora, si è detto tanto su questo argomento, abbiamo approfondito in questi mesi ed ora viene chiesto al Sindaco addirittura la revoca alla delega sulla sicurezza all'assessore. Proviamo a evidenziare i passaggi chiave, giusto per fare chiarezza, lo meritano i cittadini. Allora, uno, la strategia Velocar è stata messa in pratica su sollecitazione della Prefettura la quale ha chiesto all'assessore competente e al dirigente di individuare strade sul nostro territorio con più elevata pericolosità. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dei cittadini attraverso il controllo della velocità con i Velocar. Sollecitazione, appunto, che arrivava dalla Prefettura. Due, questa riduzione della velocità si traduce in riduzione del numero di incidenti stradali e quindi meno feriti, soprattutto gravi. Ricordiamo che le tre cause che portano a incidenti stradali, Fonte Istat, non del poliziotto vicino di casa nostra, dell'infermiere del 118 che trova incidenti stradali. Fonte Istat, uno, la distrazione, guida il telefono, messaggiando, telefonando, eccetera. Non rispetto della segnaletica, mancata precedenza su tutti, ma anche lettura dei segnali stradali. E alta velocità, terzo problema da affrontare. Questi problemi li conoscono gli prefetti e loro dicono che questa roba la dobbiamo affrontare, questa roba qua, per aumentare la sicurezza dei nostri cittadini. Bene, queste prime tre cause costituiscono il 48,2% degli incidenti stradali, delle cause che portano in incidenti stradali. Il quarto è la guida in stato di ebrezzo, sostanze, sottosostanze, stupefacenti. Va bene? Negli anni il numero di incidenti stradali sta lentamente calando, ma il dato più significativo è il numero dei feriti gravi, sempre molto e troppo alti, 18 mila nel 2019. Parlo 19 e 18, perché ovviamente nel 2020 e 2021 abbiamo tutta la pandemia, restrizioni e scarsa movimentazione. Il 2% in meno però rispetto all'anno precedente, quindi in riduzione. La riduzione di morti e feriti in incidenti stradali è dovuta, e non lo dico io, non lo dice il nostro poliziotto in questo caso, non lo dice la fonteista, soprattutto al rispetto dei limiti di velocità, oltre ad altri fattori, magari come sono costruite le autovetture, come avvengono gli incidenti stradali. Detto questo, ricordiamo che l'installazione è avvenuta in accordo con la Prefettura e la Polizia stradale, e nel rispetto delle norme vigenti. Concludo dicendo che forse il cittadino che ha infranto per 11 volte i limiti di velocità era quantomeno distratto, prima causa, non ha visto la segnaletica, seconda causa, e ha superato i limiti di velocità, le tre prime cause. Ci mancava solo che fosse stata debrezza, e le eravamo tutte, eravamo arrivati al 70%. Bene, diventando, ahimè, un potenziale pericolo per sé e per gli altri, per ben 11 volte, 11 volte, e stiamo qui in modo surreale a discutere di cittadini che per carità hanno errato, hanno sbagliato, però si rivolgono giustamente, giustamente in un percorso che vedremo come andrà a finire, nel rispetto dei propri ruoli. Opportunità e trasparenza. Giusto, ha citato il capogruppo Bertozzi, rispetto alla possibilità di spostare dall'impalcato, è opportunità e trasparenza, non è un obbligo. Poi dipende dalla possibilità che, dopo il can-can che è stato fatto, era opportuno fare questo spostamento, giustamente è stato fatto. Quindi, non so, cosa andiamo a cercare? Forse dovremmo meditare un po' prima, fare queste, emettere sentenze. Grazie a lei, consigliere Liberani. Grazie, grazie Presidente. Io sinceramente di venire qui in Consiglio Comunale a fare, a sentire il capogruppo del 5 Stelle e fare il professore, a me dà un po' fastidio. Ma di cosa stiamo parlando? Qui siamo consiglieri eletti dai cittadini, padovani, io, voi, come tutti, e presentiamo una mozione, tranquillamente, portando avanti quello che è successo in quella strada. Io, sinceramente, tutte le cose che sono state fatte da lei, il professore, non le vedo in quella strada lì. La pericolosità, il Velux, secondo il mio punto di vista, è stato messo solo per fare cassa. Punto. Per fare cassa. Lo ripeto, per fare cassa. Cioè, io non vedo altre motivazioni. Ci sono altre strade molto più pericolose da mettere un Velux. Non di certo quella. Poi vogliamo parlare, se vogliamo parlare anche sulla pericolosità di quello che è la nostra città a Franza. Parliamo delle strade malmesse in via Granarolo? Lì non è pericoloso. Certo, ci avete messo le buche, quindi la gente rallenta per forza, anche perché uno in bicicletta, uno in moto, poco che va forte, poco che passi 40 km orari, cade e si fa male. Quindi di certo non c'è bisogno di un Velux. Io ascoltare un consigliere del 5 Stelle che mi fa la morale e racconta tutte queste cose, io non ci posso credere. Non ci posso credere e sono sempre più convinto di quello che ha fatto Gabriele, di quello che ha fatto il consigliere Padovani, che sia giusto. Anche perché tutte le persone che passano su quella strada, sicuramente chi va veramente forte non è in quella strada che c'è il pericolo di creare un problema. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Matatia? Io sono basito. Sono basito perché ho sentito una montagna di cose fuori da ogni logica reale che mi lasciano veramente basito. Sono passati forse 20 anni, forse qualcuno di più, che in quella strada cinque ragazzi, cinque, il figlio dell'avvocato Pulverigiani e tante altre che non dico, i quali non ricordo il nome, morirono in un allucinante incidente stradale, dettato dalla velocità. e lei mi viene a dire che quella non è una strada pericolosa, una strada potenzialmente ad alta velocità come quella. Ma me la prego, dai, mi faccia ridere. Trovi un altro argomento per essere divertente. Grazie. Grazie consigliere. Altri negli interventi? Martínez, prego, consigliera. Buonasera a tutti. Non pensavo di intervenire, però ho sentito alcune cose che mi spingono all'intervenire. Gli autovelox non si mettono su strade X qualsiasi, ma la prefettura, quando chiede, chiede che ci siano verificati degli incidenti di un certo tipo. Non si mettono mai per fare cassa. Quella poi arriva se uno fa 11 volte, poi per forza ad alta velocità. Ma vengono messi, statisticamente, quando ci sono, come ha detto il mio collega Matatia, degli incidenti di un certo tipo. E lì incidenti gravi ci sono stati. La sentenza dice, da parte del giudice di Pace, tra l'altro, a mio parere, cosa che lascia aperto, come se anche non avesse scritto a mio parere, la possibilità di un ricorso. Abbiamo sentito tutti, prima, che ricorsi ci saranno. Noi stiamo già condannando. Si condanna dopo il terzo livello. Siamo ancora al primo, quello di un giudice di Pace, che non è legge, ma fa eventualmente giurisprudenza. Ma nel caso specifico non è un giudice di Pace. Detto questo, io aspetterei un attimino, uno, a stabilire che quelle sentenze sono sentenze definitive. Non lo sono. Mi fermerei pure un attimino a riflettere, perché su quella strada e non su altre strade, evidentemente, da parte dei tipi di incidenti che ci sono state, quella strada è considerata pericolosa. Non per niente, qua dentro, abbiamo fatto anche tante discussioni, se mettere sì, guardare il, se non metterlo. La strada è pericolosa. E farla come molti l'hanno fatta, 110, non si fa manco l'autostrada in certi momenti, mi sembra complicato. Allora, prima di lanciare strali e dire cose piuttosto che altre, forse è bene un attimino fermarci e riflettere, se non è veramente la salute delle persone a essere in pericolo. Via Granarolo è pericolosa, ma su Via Granarolo le bughe non le diamo fatte, si sono fatte. E per le biciclette, ci sta anche la ciclo pedionale, no? La ciclabile. perché devono andare sul Via Granarolo e non sulla ciclabile nelle biciclette? Lo chiedo perché qualche volta a me sembra che ci dimentichiamo che esiste un codice della strada. Quello vale per tutti, vale per me che non guido, ma cammino a piedi, vale per chi guida, vale per chi sta in bicicletta. Dobbiamo rispettarlo tutti. Veramente, la strada su cui ci sono stati questi incidenti, che quella circonvaluazione dove ci sono stati è una strada pericolosa. Questo uno. Due, aspetterò un attimino le sentenze definitive prima di condannare. Mi sembra di aver sentito, poi sto chiedendo anche che c'è la volontà da parte del Consiglio Comunale di muoversi verso i ricorsi. Quindi non stiamo parlando di sentenze già effettive, stiamo parlando del primo grado dato da un giudice di Pasce che conclude la sua sentenza dicendo a mio parere. Punto. Mi stiamo prendendo per oro colato. Forse lo sarà, forse no, ma io il dubbio ce lo metto. Grazie. Grazie, consigliera. Altri? Capogruppo Grillini, prego. Buonasera a tutti. Allora, intanto, per questo ordine del giorno, ringrazio il capogruppo Padovani che, volente o non volente, citandomi, mi dà un credito politico, quindi me lo prendo. È evidente che sul tema circovallazione mi sono speso, si è speso Italia Viva, ma prima di arrivare a questo punto faccio una considerazione invece sull'ordine del giorno in sé. Allora, è evidente che ci sono state delle sanzioni, evidente, non ripeto quello che si è detto, no, ci sono state delle sanzioni, c'è stato ovviamente chi si è appellato, c'è stata una sentenza di primo grado, ci sarà forse un ricorso, benissimo. Allora, siccome la situazione di venire, e non credo che queste decisioni le abbia prese l'assessore da solo, ecco, io credo che comunque quelle che sono arrivate qui e poi voglio arrivare all'aspetto tecnico invece delle discussioni che ci sono state fino ad oggi, no, perché poi sono stato anche tirato in ballo, e io credo che siano decisioni fatte di concerto con dei tecnici comunali, no, quindi io piuttosto che additare il dito in un ordine del giorno, no, puntare il dito su un assessore che comunque lavora di concerto con un team di persone, anche perché l'assessore non è la persona esperta in tutologia, ecco, quindi credo che ci siano, possano esserci, nel caso in cui vengono avallate queste sentenze, possano esserci delle responsabilità non per forze imputabili a assessore che lavora in team, quindi un ordine del giorno più obiettivo sarebbe quello di proporre alla luce di una situazione comunque non in divenire ma concretizzata la valutazione di eventuali responsabilità all'interno della macchina comunale che è già diverso rispetto che partire e dire vabbè è colpa dell'assessore, l'assessore è quello che viene a parlare politicamente in consiglio comunale quindi potrebbe essere una valutazione lancio uno spunto di riflessione in questa sede poi invece andando sul tema allora è evidente che io sono stato tirato in ballo a livello personale però io non ho mai parlato e non intendo farlo neanche questa sera delle persone sono stato anche tirato in ballo perché faccio parte ma quello che faccio nella vita privata lo faccio io perché mi piace farlo e tra l'altro non lo faccio di sicuro per un ritorno di qualsiasi tipo economico o di che altro genere perché faccio parte di un'associazione che si dedica proprio a parlare dei temi di sicurezza sia un tema che mi interessa la sicurezza stradale la sicurezza dei ciclisti la sicurezza dei pedoni la sicurezza degli automobilisti credo che il mio impegno sia evidente la richiesta di uno spartitraffico la richiesta cercare di promuovere la richiesta a distanza di un metro e mezzo delle auto dai ciclisti cercare di promuovere un certo tipo di educazione credo che io non sia quella persona che mi si vuole dipingere che contro il rispetto delle regole io credo di essere proprio per il rispetto delle regole per il rispetto dei limiti per una convivenza civile che porta a salvare delle vite io la critica che ho fatto su questa circonvaliazione non l'ho fatto su questo punto perché chi trasgredisce trasgredisce quello che ho detto su questa circonvaliazione che fosse la circonvaliazione prima di essere soggetta a questo tipo di rilievo doveva essere messa a norma perché quello che ho detto in questa sede e se uno va a vedere esbina è proprio questo e lo ripeto oggi che c'erano dei dubbi ci sono tuttora sulla natura della strada e la correlazione di quei velocar in base proprio a quella che è la natura della strada e la categoria della strada oltre che in prima istanza anche al collocamento di uno dei due velocar sotto il ponte però ci sono tutta una serie di elementi molto contraddittori che abbiamo analizzato in questa sede e di cui io sono stato uno di quelli che è andato ad analizzare questi dati ma abbiamo parlato di dati e non di persone o di atti di negligenza di persone e voglio riportare il tema e la discussione del Consiglio Comunale su dati tecnici il tema è stato questo e se arriviamo oggi a un giudice di pace che si esprime in maniera contraria vuol dire che forse le mie letture quelle di altri di questi dati non erano così sbagliati o erano comunque ipotizzabili ma non perché si vanno a difendere i trasgressori della legge o non perché i giudici sbagliano perché vogliamo dire anche questo spero di no ma perché forse la normativa a volte è difficile da interpretare e forse quello che dicevo io era bene essere prudenti per non esporre il Comune a un danno orariale speriamo che non ci sia adesso vedremo perché facciamo dei ricorsi sono altre spese eccetera mi voglio augurare che non sia così ma la discussione era prettamente su questo tema vogliamo fare sicurezza nel Comune di Faenza allora io nelle ultime due settimane sono stato centrato a piedi da una macchina in due movimenti differenti con due dinamiche differenti mentre correvo allora vogliamo veramente tutelare gli utenti deboli della strada mettiamo un velox in via le stradone sicuramente facciamo poche sanzioni ma facciamo educazione e non repressione e non è un deterrente vogliamo fare educazione andiamo a fermare senza multare tutti quegli automobilisti che non fanno passare i pedoni sulle strisce pedonali che io quando mio figlio va in giro a piedi o in bicicletta ho paura di cosa gli può succedere perché qui a Faenza c'è un tenore di condotta che è sopra le righe e invece no andiamo a intervenire su una strada che probabilmente non è a norma che probabilmente non è messa in sicurezza però perché la gente vada piano e non faccia dei disastri diciamo guarda che c'è il velo che è intanto così io non te la metto a norma però intanto o comunque procrastiniamo abbiamo fatto l'ordine del giorno sullo spartitraffico eccetera procrastiniamo però intanto tu per stare buono e tranquillo devi avere questa condotta va benissimo questo si può fare va bene a me va bene però facciamo anche altro facciamo anche altro stiamo sali stiamo sul pezzo gli utenti deboli ci sono i problemi ci sono ricondurre tutto a ama lui ama quello allora qui non c'è niente di personale qui la gente ci ha votato perché trattiamo i problemi della gente non si mettono in piazza i fatti personali perché per me è di basso livello io credo che con i miei voti ho dato un contributo affinché ci fosse una maggioranza che governasse in un determinato modo e ci fosse anche chi potesse fare l'assessore prendere lo stipendio come tale impegnarsi come tale quindi le mie aspettative sono in questo senso perché la gente si impegni per produrre dei risultati la dinamica politica il dibattito politico è lecito poter dire qualcosa è lecito altrimenti non siamo più in democrazia ma siamo in epoca di repressione dittatoriale e non vorrei che i tenori delle discussioni in questo consiglio finissero lì perché la libertà di espressione è un valore e lo rivendico da questa maggioranza e da qualsiasi punto di vista e da qualsiasi parte io possa andare a sedermi o da qualsiasi parte io possa girare in qualsiasi luogo io possa essere e difenderò sempre questi valori e credo che abbiamo un po' perso di vista quali sono gli obiettivi quindi ricapitolando poi dopo ci sarà anche la dichiarazione di voto però voglio fare un po' una sintesi apprezzo l'idea dell'ordine del giorno ma vorrei che fosse ricondotto più sul tecnico che sul politico questa è la mia richiesta e procrastinato quindi rimandato a una situazione divenuta e non indivenire e allora potrebbe essere un ordine del giorno più obiettivo anche se capisco qual era l'intento politico ovviamente e ha un senso perché facciamo politiche in questa sede detto questo però ripeto ci parla di dati dobbiamo stare sui dati può andare bene avere un Velocar in circovallazione però è evidente che bisogna fare di più per la sicurezza degli utenti della strada e non è un Velocar in circovallazione che risolve questi problemi assolutamente quindi io mi aspetto che non ci sia solo una fase di repressione di sanzione ma ci sia anche una fase educativa che è quello di cui ha bisogno la nostra città grazie grazie a lei capogruppo altri interventi capogruppo Zoli noi non sappiamo ancora come come votare o come voteremo questo documento prenderemo in considerazione il consiglio del capogruppo Neri mediteremo la problematica è complessa è difficile avere una posizione netta credo che siano stati fatti degli errori nel piazzare l'autovelox in maniera troppo celata la richiesta comunque di spostare nella posizione il giudizio di primo grado del giudice sembrerebbero far pensare a un sì credo che questi errori possano essere sufficienti a giustificare o richiedere che venga tolto il mandato all'assessore Bosi forse no giusto giusto l'intervento del collega Grillini su un'eventuale ricerca condivisione di eventuali responsabilità forse in figure più tecniche la questione è un po' controversa è indubbio che i cittadini multati hanno ricevuto la multa perché oltrepassavano i limiti di velocità e quindi non stavano alle regole pur sapendo che chi non le rispetta è giusto che venga punito e multato è altrettanto vero che ci sono regole per questi controlli se ci sono regole devono essere rispettate queste regole ci dicono che l'autovelox deve essere considerato come uno strumento di deterrenza e quindi se un autovelox è nascosto e non si vede non può essere considerato tale ma solo uno strumento punitivo se un autovelox è segnalato quindi probabilmente non corrisponde a quelle norme e quelle regole per cui è nato a quello scopo per cui è nato sono molto indeciso su cosa votare a questo odg anche se non credo che questo rappresenti un grosso problema perché ordini del giorno come questo sono prettamente politici e sicuramente non hanno nel voto il loro principale obiettivo visto che comunque è assolutamente scontato che non avrà mai i voti della maggioranza e quindi che non potrà passare mai anch'io ho contestato il posizionamento di questi autovelox perché li ritenevo politicamente sbagliati probabilmente questo posizionamento è stato difeso in maniera troppo evidente dall'amministrazione comunale e dall'assessore Posi perché era lui che ne rispondeva vorrei per questo le dimissioni dell'assessore Posi sinceramente a me sarebbero bastate due parole per chiudere la faccenda e la polemica due parole che purtroppo in politica sembrano essere state abolite o annullate ho sbagliato o abbiamo sbagliato non c'è niente di male nell'ammettere un errore secondo me sembra quasi che i politici abbiano preso esempio da Fonzi in Happy Days e non possano mai dire ho sbagliato sembra che sia la maledizione che non so che cosa succede due parole che spero vivamente prima o poi di sentire pronunciate da un politico illuminato grazie grazie a lei direi che si può definire conclusa la discussione chiede al relatore se vuole nuovamente intervenire dare alcune delucidazioni visto che si è un po' travisato il mio senso dell'ordine del giorno non si parla assolutamente del fatto che ci siano state delle inflazioni siano state inflazioni santenate che i Velox siano giusti o sbagliati non si sta discusendo sulla bontà in un'installazione Veloc oppure no come mi collego a quello che poco prima diceva il capogruppo Bertotti e non è nemmeno tanto politica ma un fatto di valutiamo le competenze come prima abbiamo dato una valutazione negativa ma con rimando a settembre della giunta sull'operato del centro storico per quanto riguarda l'incentivare il centro storico noi riteniamo che ad oggi la valutazione di competenza e la valutazione sull'operato dell'assessore Bosi sia insufficiente purtroppo riteniamo anche rischioso il suo continuo ecco la prova oltretutto pensate un po' noi siamo stati i meno accaniti in certi periodi in certi periodi mi ricordo nel marzo me lo sono andato anche a trovare negli articoli di giornale nel marzo 2021 addirittura certe parti politiche sia di maggioranza che di opposizione insinuavano ventilavano alcune responsabilità dell'assessore Bosi su certi mancati controlli e correlato a questa responsabilità del suo rovoglio correlato al fatto che fossimo andati in zona rossa con gli aumenti dei contagi covid se volete ve li cito oltretutto vi cito un passaggio di un'interpellanza in quel periodo in consiglio comunale così si vedono molte facce un po' stupefatte quindi vi rinfresco la memoria quell'interpellanza emersa sugli organi di stampa e quindi adesso ve la leggo in un passaggio dice per questo chiediamo al sindaco e all'assessore se si sono fatti tutti gli sforzi possibili sul contenimento del virus e se si sono adottate tutte le precauzioni e le misure di intervento che necessito in un momento così tremendamente alto di contagi fino a qui non ci può anche stare punto e continua probabilmente serviranno più controlli e più presidio su quelle zone di assembramento che in molti abbiamo visto nella nostra città dire qualcosa non ha funzionato perché siamo arrivati a questo punto ecco l'insinuazione punto di domanda e su quel in quel periodo in tanti giornali emergevano che io mi ricordo perfettamente fui anch'io chiamato da un giornalista chiedendomi se mi sentivo di fare alcune dichiarazioni addirittura già accennandomi che c'erano dei gruppi consigliari che insinuavano alcune responsabilità per l'aumento dei contagi covid all'assessore e io dissi non me la sento sinceramente non mi sembrava giusto però c'erano dei gruppi consigliari che lo facevano ecco altro tipo di competenza oltretutto cos'è che denota cos'è che denota e qui un fatto politico c'è piccolissimo gruppo di opposizione che chiede una cosa altamente coraggiosa o altamente intraprendente cioè quella di chiedere al sindaco che revuti la delega all'assessore Bosi ebbene il soggetto l'assessore Bosi valutando i suoi provvedimenti il suo operato la bontà della sua competenza non tanto il fatto che ci siano state infrazioni che sia il velo o quant'altro mi sarei aspettato anche dal capogruppo soprattutto dal capogruppo neri una difesa dell'operato sui provvedimenti sulla bontà delle azioni sul lavoro magnifico nessuna difesa da parte vostra da parte nostra certo un attacco ci mancherebbe da parte vostra di maggioranza abbiamo visto operazioni di andare a delegittimare la bontà del documento travisandolo facendo anche del sezionalismo citando anche le morti che oltretutto sì le ricordiamo sappiamo benissimo e oltretutto io avevo citato il fatto che maggior causa di incidenti fosse la velocità neri mi ha smentito perché è la distrazione non è la velocità addirittura pensate un po' proprio in una circolazione dove sì anche il consigliere Grillini sempre ha chiesto lo spartitraffico proprio perché in caso di distrazione e qui sicurezza stradale passiva rischi ci sono minor rischi di commettere di avere incidenti gravi perché il salto di carreggiata e oltretutto c'è già stato un salto di carreggiata anche dopo che si è installato il velox c'è stato e oltretutto fatalità era purtroppo un autotrasportatore che per causa malore ma ha fatto due cause ecco me ne dimenticavo un altro due salti di carreggiata e non era derivante dalla velocità per tutt'altre cause uno spartitraffico e fortunatamente fortunatamente non ci sono stati incidenti gravi in quei due casi ma solo per un caso fortuito e non derivante dal fatto che il velox glielo abbia impedito di fare il salto di carreggiata il salto di carreggiata lo impedisce uno spartitraffico semplice ecco perché la differenza tra sicurezza stradale attiva passiva e deterrenza è molto semplice non ci vuole e qui competenza poi citiamo altri provvedimenti per favore perché quasi quasi mi sento io di difendere lo difendo allora vogliamo citare la consulenza esterna che ha prodotto diverse decine di migliaia di euro per la polizia locale avrà prodotto pure qualcosa non ci ho capito niente ma l'ignorante però ho so solo che abbiamo preso diverse decine di migliaia di euro alcune dichiarazioni promettendo stiamo parlando del personale il personale è importante il personale l'organico tra corpo diretto e agenti che si ferma quota 66 allora l'ottimale sarebbe 69 e nel 22 punteremo e crediamo che si realizzerà senza troppi problemi cose semplici ad oggi ci siamo quasi non siamo riusciti ad effettuare cose semplici perché senza troppi problemi significa baseicola e siamo a 68 quindi lo difendo c'è quasi poi vogliamo parlare della risoluzione di Piazza Dante anche qui citato sia da maggioranza che da opposizione alcune criticità con interpellanza interpellanza è qui in Consiglio Comunale dove si sollecitava l'assessore a come si dice in Romagna darsi una mossa poi alla fine voglio dire dopo qualche tempo ce l'ha fatta come Piazza San Francesco ah no quella è ancora da sistemare c'è ancora due anni per poterlo fare diciamo una cosa ecco di difesa assoluta quindi bisogna difesa il regolamento del verde cioè grazie a quel regolamento siamo riusciti a regolamentare i giardini di Natale in corso ma sì beh vogliamo dire che non che non sia una cosa eh buona e giusta rispetto delle regole è un regolamento regolamento del verde per carità io mi sarei aspettato che politicamente lo aveste difeso nel suo operato e paradossalmente adesso faccio una dichiarazione sciocca così vado anche sui giornali domani mi trovo praticamente al 99% d'accordo con le dichiarazioni di adesso che dite domani è dichiarazione di sciocca però non potete dire che vada a bracetto con la maggioranza ovviamente vada totalmente a bracetto con la maggioranza quindi diciamo che siamo nell'intramezzo giusto 99% sulle dichiarazioni di adesso gridini mi trovo perfettamente d'accordo perfettamente d'accordo e io ho aggiunto altri 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 episodi poi mi so perché forse vogliamo giocare perché infatti qui in questa busta prima di avere il consiglio comunale avevo anche fatto alcune previsioni di alcuni di voi quali dichiarazioni così mi piace anche prevedere qualcosa ho totalmente sbagliato quelle di adesso per quello che mi trovo completamente d'accordo perché ho sbagliato ma Neri proprio l'ho azzeccata benissimo anche perché nelle dichiarazioni sul giornale era troppo facile azzeccare io ho scritto che lei parlasse di rispetto delle regole e quindi la buttasse sul fatto che noi parliamo di rispettare le regole uno che superi i limiti di velocità va sanzionato certo che va sanzionato qui si tratta di capire se l'assessore è competente da non creare danni al contone al cittadino questa è la valutazione oggettiva che dobbiamo fare anche perché moralmente non lo troverei troppo ingiusto sulla base se noi perdessimo quel riposo sì 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 per carità non condanno nessuno ma se lo perdessimo siamo pronti qui a dire in questo consiglio comunale che voteremo per il rimborso perché è la seconda sentenza dopodiché cosa facciamo è un'ulteriore interpretazione è un'ulteriore interpretazione se perdessimo quei ricorsi lo butto qui così perdessimo quel ricorso dopo come ci comportiamo li rimborsiamo c'ha ragione loro queste sono le mie risposte grazie grazie consigliere apriamo la fase di dichiarazione di voto capogruppo Bertotti la dichiarazione di voto che chiaramente è un voto favorevole a questo ordine del giorno due considerazioni molto veloci ho un difetto ce ne ho tanti ma uno che rileva in questa sede io quando faccio una richiesta di accesso agli atti dopo leggo gli atti che mi vengono mandati e prima che Gruppo Neri ha detto una cosa che è stato il prefetto che ha chiesto al Comune di Fenza di installare l'autovelox ora c'è una nota a firma del sindaco Massimo Isola datata 2 novembre del 2021 in cui tra le altre cose chiede per i motivi sopresposti si chiede alla signoria vostra di inserire il tratto urbano della strada statale 9 compresa tra il km 61 più 700 e il km 63 più 700 via Sirelli per farla breve il prefetto risponde vista l'istanza inviata con la nota protocollo 7.3992 in data 3.11 2021 quella che ho chiesto e che mi avete dato cioè che mi ha dato l'amministrazione comunale del Comune di Fenza intesa a ottenere si autorizza quindi è stato il Comune di Fenza che ha individuato quel tratto di strada se si dicono è inutile scuotere la testa questi sono i documenti voi alle domande che abbiamo fatto prima non è stato risposto non si è data la risposta si rispondono cortesemente con i documenti la velocità è un problema la velocità uccide nessuno il non rispetto dei limiti di velocità deve essere sanzionato prima di tutto l'amministrazione deve mettersi nella condizione perché questo accada è in sicurezza e deve fare prima di tutto prevenzione durante quell'interrogazione comunale del settembre noi abbiamo chiesto spostate quel velox tra le altre cose non si è deciso di fare per incapacità per protervia io opto per questa perché si voleva fare cassa opto anche per questa perché si voleva fare cassa perché se si voleva fare prevenzione quel velox fin da subito sarebbe stato messo in una posizione visibile e sarebbe stata data visibilità alla cartellonistica in maniera diversa come poi e dopo è stato fatto con un parere della polizia stradale che non mi è stato mai reso disponibile quindi il tema non è la sentenza io non lo so non faccio il giudice quindi non so in terzo grado che cosa succederà quindi prima di parlare di danno erariale vedremo che cosa succederà vedremo anche quale sarà l'atteggiamento dell'amministrazione comunale nel corso dell'interprocessuale ma c'è un due mesi non per fare del can can per chiedere il rispetto delle regole e il rispetto dei cittadini di tutti anche di quelli che non trasgrediscono e che non è stato assolutamente minimamente preso in considerazione per ottenere un minimo di attenzione è stato necessario avviare l'iterimino amministrativo che è prerogativo di un consigliere comunale e che intendo esercitare in questo modo e che ha portato a questa sentenza questa è la principale responsabilità politica dell'assessore Bosi e anche del comando della polizia locale perché è vero quello che si diceva poco fa non è l'assessore da solo che prende queste decisioni ma c'è uno staff che poi è uno staff di una persona perché è responsabile della polizia locale che ha rifiutato in più occasioni di darmi gli atti che chiedevo quindi per queste ragioni il mio voto sarà favorevole grazie altre dichiarazioni di voto chiudo anche la fase di dichiarazione di voto e portiamo in votazione l'ultimo punto il punto 9 un ordine del giorno dal titolo revoca chi è favorevole chi è contrario chi si astiene l'ordine del giorno è respinto con 4 voti favorevoli 3 voti di astensione e 15 voti contrari i votanti presenti erano 22 ringrazio a tutti per la partecipazione e vi auguro buona serata e gli ultimi 50 minuti di martedì grasso grazie